Tra il pubblico, agli amministratori, ai sindaci dell'area, ex sindaci e alle associazioni presenti. Un grazie particolare ai sindaci dell'area della Lago Negresa, che stasera sono tutti presenti. E un particolare ringraziamento ai relatori che quest'oggi abbiamo, che presento immediatamente e con i quali io ho avuto modo già di effettuare degli incontri che sono stati forieri di idee, di qualità, di rispetto all'esperienza, alle loro vissute nell'arco nazionale e soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, iniziative tutte compatibili con i territori e la salvaguardia del terreno. Parto però dal ringraziare Claudio Fuini, che questa sera è in prima presentanza di Nomisma. Nomisma, come sapete, è un organismo nazionale di grande esperienza amministrativa e di studi economici e societari, perché è stato consulente del supporto di molte pubbliche amministrazioni e di grandi e grosse società nazionali. Ed è Claudio Fuini ha il nostro riferimento che ci farà un confronto e ci esporrà relativamente alle sue esperienze in che modo si interfaccia una corretta e giusta gestione di un territorio con la compatibilità e il rispetto dello stesso nel mettere in campo strategie di sviluppo e governo dello stesso territorio. Questo convegno, questo incontro era un impegno che io avevo preso con i sindaci della Costituita Unione per un confronto proprio sul proclamato di questo tipo e per un confronto anche sulle esperienze già vissute in altri territori sulla formula dell'Unione di Comune. Ed è anche il giusto momento per partire con il piede giusto per la stessa Costituita Unione partendo proprio dalle esperienze, partendo proprio dalla concretezza di iniziative che hanno determinato per altri territori sviluppo ed economia. Abbiamo poi Alessandro Starmini che è un esperto di ferrovie, di mobilità diciamo sui territori nazionali e soprattutto negli ultimi anni è stato uno dei contori della mobilità turistica in aree dismesse e in aree di particolare qualità ambientale. Ed è il primo consigliere del Ministero per la Struttura e Trasporti. Quindi capirete Alessandro quale peso e qualità abbia alle sue spalle. Abbiamo poi Claudio Vertua che rappresenta le ferronie turistiche italiane ma che ovviamente non svolge solo questa attività. Lui rappresenta anche i consorzi nazionali che hanno fatto di iniziative compatibili e di turismo sostenibili un motivo di vita e di grande sviluppo economico per tantissime aree. Abbiamo Antonio Squeglia che invece ha un'esperienza grossa sia come imprenditore che come consulente per quanto riguarda l'ospitalità diffusa. Lui non solo è stato il consulente di progettazione di ospitalità diffusa ma è anche il gestore di esperienze di porchi diffusi sul territorio nazionale. Ovviamente a questo leghiamo anche l'esperienza vissuta dalla FEM, dalla Fondazione Enrico Mattei che oggi ci parlerà di altre esperienze con la dottoressa De Filippo e il dottor Chiamullo alla mia intervista che ringrazio in modo particolare insieme a tutti i rappresentanti della FEM che ci stanno sostenendo in questa iniziativa ma anche in un discorso che sta alle spalle di questa iniziativa che deve essere un momento di partenza, deve essere un modo per acquisire un criterio di lavoro, un sistema di buone pratiche da cui partire per non sbagliare. e credo che con un unico denominatore, cioè ritenendo che il tema della sostenibilità sia l'unica metodologia applicabile per la definizione di una strategia e di uno sviluppo di un qualsiasi territorio. ed è proprio da questo che vogliamo partire e per questo ringrazio la rappresidenza dei parti, da parte del Pollini, del direttore e tutti coloro che in questo settore lavorano e hanno ritenuto di questo momento un momento significativo ed importante. Quindi io stiamo aspettando l'assessore Berlinguer e il dottor Manti che sono ovviamente l'interfaccia regionale che è l'altro aspetto della programmazione. Oltre alle idee, poi servono anche le gambe e servono anche gli altri attori che concorrono a realizzare percorsi virtuosi di un possibile sviluppo. Ovviamente riteniamo che questo sia un momento di partenza e riteniamo che cominciare con un confronto di qualità e di sostanza sia il modo migliore per partire e lavorare a questo tempo per poter fare un ottimo lavoro e guardare, sì, veramente, con concretezza al nostro sviluppo. Quindi cedo subito la parola per entrare nel merito a Claudio Furini che appunto interverrà sull'Unione dei Comuni e di Gestione dei Territori. Grazie, prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Claudio Furini, sono uno advisor di Nomisma. Mi piacerebbe essere qua con voi questa sera, ringrazio il sindaco quotidiano e tutti i sindaci che ci hanno permesso questa presenza. L'argomento che andiamo a trattare questa sera è, credo sia, di fondamentale importanza. E vorrei trattarne in maniera molto concisa e usando espressioni semplici e se possibile anche degli esempi concreti per far capire l'importanza del passo che avete fatto. Il primo passo che avete fatto è la Costituzione dell'Unione dei Comuni. Può sembrare una banalità ma è l'unica cosa, l'unica fondamenta corretta per poter permettere una gestione del territorio. L'Unione Europea stessa chiede un'aggregazione dei Comuni per poter elargire i fondi. Non è più possibile, come veniva fatto in passato, settentato 2007-2013, avere vivoli i progetti, presentare un progetto più o meno sostenibile e portare a casa dei fondi. Con il nuovo settentato 2014-2020 viene chiesta un'analisi strategica del territorio. Che cosa significa questo? Ascoltare il territorio. Il territorio è formato dalle persone che lo vivono, dalle realtà che lo vivono, gli imprenditori, la parte pubblica, la parte sociale. I settori individuati dall'Unione Europea sono la inclusione sociale, la mobilità, la protezione ambientale, la ricerca, la salute, la scuola, lo sviluppo. Sono tutti argomenti che vanno discursi, trattati e sviluppati assieme al territorio. Ai sindaci viene chiesto qualcosa di diverso rispetto a quello di come spendono i soldi o come procurano i soldi, viene chiesta una visione con una lunga scadenza che va al di là della loro scadenza naturale del mandato. Spero che nessuno si scandalizzi di questo, no? Ma ci viene chiesta una visione, un progetto, non solo al 2020, ma addirittura proiettato al 2035. In pratica, che cosa ci chiedono? Di cominciare a progettare il futuro dei nostri figli. Un qualcosa che abbia una coerenza, una logicità, una ricaduta sul territorio. Può essere una ricaduta materiale in termini economici, una ricaduta immateriale, benessere, welfare, occupazione, ma comunque deve avere un parametro misurabile. Unione dei comuni perché? Perché allarmi il territorio. Lo sviluppo non ha confini di un comune. Lo sviluppo è del territorio. Che cosa chiede il territorio? Questo è il primo passo da fare. Una fotografia di come si è attualmente. Quali sono le esigenze, quali sono le necessità, quali sono le negatività, quali sono le cose positive. Cioè, che cosa può esprimere il territorio? All'Unione Europea non interessa niente dei problemi, interessa le opportunità e lavorare sulle opportunità. Visione strategica significa un etodo, che va anche al di là dei contenuti di un singolo progetto. è la costruzione di una grande cornice all'interno del quadro, della quale viene formato un quadro con tanti tasselli, un grande mosaico. Ognuno di noi ha un mosaico, ha una tessera in tasca, una, due, tre, dieci, ma se li tiene, non ha un'opera completa. Se li mettiamo tutti assieme, questo viene fuori, viene fuori l'opera d'arte, e questo è anche finanziabile. Sto parlando di finanziamenti a livello europeo, ma questo passaggio deve essere fatto indipendentemente dai fondi. Se non c'è una analisi strategica, non c'è progettazione futura. Per poter parlare di progettazione, devo capire dove sono, come sono, cosa sto facendo. Devo cominciare a pensare che cosa voglio fare, come voglio essere tagrande. Porto un esempio malissimo. In tutti i territori d'Italia, quando io parlo di turismo, mi ha detto, ma se una località di mare, il turista vuole il mare, no? Se una località di collina vuole la collina, montagna vuole la montagna, io sono veneto, abbiamo le terme, e ci sono anche qua, e il turista tedesco preferisce le terme. Siamo noi che decidiamo che cosa vuole il turista. Non è così. Noi abbiamo fatto una piccola analisi, un piccolo sondaggio, proprio utilizzando i database degli envergatori in una determinata area, dove li abbiamo accompagnati in un percorso di aree interne. E sono venuti fuori delle risposte impressionanti. Al turista non interessa in che comune si trova, non interessa la distanza da casa sua, non interessa stare fermo, ciò che vuole è, in un tempo sempre più breve, perché una volta si facevano le vacanze di un mese, dopo di due settimane, adesso siamo arrivati ai 4-6 giorni, vuole essere coccolato, vuole comfort, vuole benessere, vuole vivere in maniera serena e tranquilla. Abbiamo dei dati, che forse sono già noti, se noi andiamo a vedere il turismo lo scorso anno del 2014, il turismo di mare ha avuto una leggera flessione, un meno 4,2%, turismo di montagna, una grandissima flessione, meno 8,1%, turismo di campagna, più 14%, quasi tutti stranieri. Che cosa significa? Il turista che viene vuole staccare dalla vita quotidiana, dalla vita normale, avere qualcosa di diverso, che è l'ambiente, e abbiamo il dovere sacrosanto di proteggere l'ambiente, è l'accoglienza, e qua credo che la formazione sull'accoglienza abbia un peso rilevante, vuole buon cibo, e qua si attiva tutta la filiera corta agronomica. Rispondendo solo a queste cose qua abbiamo toccato formazione, agricoltura, un altro passaggio importante è la mobilità, come arriva, le strade di accesso, con che mezzi, altra cosa importante che è in grandissimo sviluppo, il turista che si muove con mobilità dolce, cioè lo spostamento con mezzi, bicicletta, piuttosto che altre cose, va e ritorna. Il turista è una miniera, ma sto portando a questo come esempio, il turista non vuole il mare, la montagna, vuole la collina, vuole ciò che di meglio noi gli offriamo, lo stesso turista, lo stesso periodo di tempo, può essere ospite al mare, può visitare località in montagna, può essere ospite delle terre, e ci vuole una struttura unica, in grado di gestire, su tutto il territorio, l'accoglienza del turismo. Non è più pensabile l'ufficio turistico comunale, ci vuole un'offerta molto più ampia. Se riusciamo a capire questo, riusciamo a capire anche che si innescano una serie di meccanismi importantissimi. Il turista vuole comodità, quindi dobbiamo spiegare all'albergatore che non deve risparmiare i soldi sul materasso, non è quello il suo guadagno. Non deve risparmiare sui sorrisi, non è quello il suo guadagno. Deve avere una preparazione, deve saper comunicare, interagire e trasmettere qualcosa che lega la persona all'ambiente e al territorio. Utilizzo, uso dei prodotti locali, agricoltura. Altro grande settore in fermento. Quante piccole e micro aziende ci sono nel territorio? Che cosa producono? Come lo producono? Chi sono gli utenti finali? C'è una scuola adeguata che prepara i ragazzi, per esempio, a gestire un agriturismo? Proviamo a pensare a un'altra forma di turismo, no? Se ti ho parlato oggi che c'è un potenziale enorme di turismo religioso. Uno viene in pellegrinaggio, ma nulla vieta che gli si possa offrire tutto il resto. Non è una penitenza, è un viaggio. Che potenzialità mi dà? E sono preparato ad accoglierlo? Strutture alberbiere, sono adeguate? Non lo so in questo territorio, non abbiamo avuto modo di parlare, ma forse un po' di mano ci va messa, no? Perché noi pensiamo sempre al turismo delle persone che non hanno problemi, ma per esempio ci dimentichiamo del turismo delle persone diversamente abili. Ed è un potenziale enorme. Lo stiamo vedendo. Una piccolissima frase. L'attività sportiva delle persone diversamente abili. parliamo di 5 milioni di persone. Quando si muovono, non si muovono da soli, si muovono con la famiglia. E allora, fino a che loro sono impegnati nella loro attività, i familiari che cosa fanno? Ecco che dobbiamo essere pronti ad offrire qualcosa che vi soffresa. Formazione determinante, va ripensata anche la scuola. La scuola di agraria non deve essere più quella tradizionale, ma deve essere quella studiata per quel determinato ambiente. Deve essere creato un brand per i prodotti che vengono fatti. Devono essere valorizzati. Quando uno lascia il territorio, gli deve restare impressa nella mente il momento piacevole che è vissuto. Se gli rimane questo, lo trasmette agli altri. fidelizziamo potenziali turisti e portiamo pubblicità e innovazione e promozione. Bisogna prima mobilità, ma non solo mobilità, perché deve essere anche una struttura sanitaria adeguata. Deve essere ripensata, rivista, riorganizzata, con un contenimento di costi importante, ma con un'offerta di servizi altrettanto importante. Parlavo prima di agli turismo. Agli turismo non è ti do la mangiata, ma è anche ti do la ospitalità. Io non so la capienza per esempio di laurea, di ricezione di persone che arrivano all'esterno, ma in funzione dei progetti e dei programmi che verranno messi in atto, queste sono delle cose da valutare. La grande strategica quindi come si fa? Si fa parlando con gli imprenditori locali, si fa parlando sicuramente con le autorità, con la pubblica amministrazione, con i sindaci, individualmente e in gruppo. Si fa parlando con le associazioni di categoria, si fa parlando con gli studenti. Questo mi dà il termometro della situazione attuale. Dopo, a voi è dato l'onere, il compito e la responsabilità di stabilire dove si vuole andare. E questo va messo giù su un programma a 20 anni. Ma un programma a 360 gradi non esiste una cosa scollegata, cioè non esiste un turista scollegato dal mondo dell'edilizia, scollegato dal mondo della formazione, scollegato dal mondo dell'agricoltura, scollegato dal mondo dell'accoglienza, della mobilità, dei trasporti. È un progetto che va portato avanti in sintonia. Dicevo prima, è una cosa sovraccomunale. Ecco l'importanza della collaborazione. Ci siamo trovati a lavorare in aree dove c'erano delle unioni di comuni fatte sulla carta, ma dove il campanilismo la faceva la padrone. dove la paura di perdere di autorità era un deterrente importante. Piano piano siamo riusciti a far capire l'importanza della collaborazione. Non esiste una strada che finisce al confine di un comune. Non esiste una scuola che finisce al confine di un comune. La grande responsabilità che hanno i sindaci in questo momento e lo dico alle persone presenti è quella di progettare un qualcosa che va al di là del loro mandato e se lo hanno fatto e se faranno bene questo lavoro saranno riconfermati sicuramente. Ma è il territorio che chiede e chiederà sempre di più disponibilità e ascolto. la capacità di ascoltare è importantissima. Torno ai fondi europei. Ripeto che non sono determinanti ma a Bruxelles sembra ci siano 700 miliardi che vanno divisi tra tutta l'Europa noi italiani sicuramente non ci siamo distinti per qualità e per capacità nell'andare ad attingere i fondi che si è a disposizione. Nel 2014 nel settemato precedente sembra che abbiamo portato a casa più o meno il 52%. dei fondi destinati all'Italia non è mancata la progettualità perché la progettualità presentata era pari al 108% è mancata la capacità di preparare progetti collegati cioè io porto un progetto per la costruzione di una casa bellissimo meraviglioso fantastico una casa se non spiego a che cosa serve non porto a casa i soldi del mio allotero vi porto un esempio banalissimo ma concreto il comune di Milano aveva gli edifici di Monopoli da recuperare ha fatto un progetto di restauro meraviglioso perché aveva in mente di utilizzarlo per scopi sociali ha presentato il progetto con l'efficientamento energetico con tutti i sacrificrismi l'Unione Europea non ha finanziato perché perché si sono dimenticati di dire che quell'edificio sarebbe andato alle madri sole alle famiglie disagiate alle persone in stato di necessità se avessero impostato il progetto in maniera diversa dicendo noi abbiamo questa situazione di problema sociale e intendiamo risolverlo utilizzando un immobile che in questo momento è un costo è un peso per la società e abbiamo bisogno di aiuto per adeguarlo alla soluzione di un problema sociale sarebbero levate i soldi non cambia il succo della sostanza cambia il risultato ecco allora che serve un accompagnamento una cosa fondamentale fino a ieri che cosa succedeva veniva fuori un programma un bando e allora si andava nel cassetto a vedere se c'era un progetto pronto per poter prendere i soldi non è più così è il territorio che esprime le necessità prima ci si affidava i tecnici la consulenza veniva da dei tecnici i tecnici che cosa fanno presentano un progetto in base alle loro esperienze maggiori non in base all'incestità del territorio il grande cambiamento qual è l'accompagnamento in questa fase l'accompagnamento nella fase di realizzazione di progetti di idee che nascono dal territorio con tecnici che si adeguano e non gestiscono le necessità del territorio accompagnamento è una parola difficile ma è la realtà probabilmente non lo so il vostro territorio esprime già delle realtà in grado di farlo noi per la nostra esperienza abbiamo visto che c'è una grande fama fame di imparare una grande fame di fare un grande desiderio di realizzare ma anche una grande volontà di chiedere aiuto in questo se volete noi possiamo aiutare in tutto quello che è l'analisi del territorio e accompagnarvi a mettere giù le vostre idee le vostre idee per la soddisfazione dell'energistare del territorio altra cosa importante l'Europa non è più un bancomat non è che uno va e dice ho un progettino tangano chiede risultati e dobbiamo rispondere ai risultati e quindi i progetti devono aver risultati misurabili non è più possibile agire in maniera diversa quindi il passo che avete fatto bisogna di comuni determinante fondamentale ma è solo il primo passo il secondo è la consapevolezza della vostra responsabilità quando dico vostra non dico solo dei sindaci dico anche delle persone presenti perché anche loro devono esprimere le loro idee cioè non è più il tempo in cui si critica chi fa è il momento in cui bisogna proporre idee e soluzioni è evidente che proporre non vuol dire accettare se non entri in uno schema generale se non entri in un progetto generale una idea non può essere accettata ma è importantissimo il contributo per costruire quel mosaico che abbiamo detto prima ecco non so se sono riuscito a passare il messaggio dell'importanza del momento ma è una svolta epocale quella che si sta realizzando adesso 2000 2013 2020 è l'inizio di una nuova epoca ma è anche il periodo in cui si gettano le basi per il futuro con un occhio al 2035 io ho finito vi ringrazio per la pazienza spero di essere stato piano ma è fondamentale la collaborazione un grazie a Claudio Furini salutiamo l'assessore Perlinguer che ne ha fatto già raggiunto e volevo ringraziare la giunta con una gloria che ha al completo per esempio questa sera che mi accompagna sempre grazie quindi passo passiamo dalla da Venezia alla Toscana dando la parola ad Alessandro Starmini buonasera la presentazione è già stata fatta quindi io diciamo inizio ringraziando ovviamente il sindaco di laurea e i sindaci che sono qui presenti oltre che persone qui presenti per l'opportunità di diciamo di mettere una cosa dentro il quadro che veniva prima di me illustrato su come quali sono le condizioni per gettare le basi di un possibile sviluppo allora sì vale la pena io cominciavo con una domanda brutale vale la pena pensare al recupero e al riuso affini tonistici di una ex ferrovia in particolare la ex ferrovia Lago Negro Spezzano ma come vedete ho aggiunto anche diciamo il tema della ferrovia Siciliano Lago Negro non che la seconda sia la condizione della prima e so bene anche della complessità di questo secondo punto tuttavia noi dobbiamo tenere presente anche questo secondo aspetto per i motivi che dopo vi illustrerò come vedete è illustrato e il tracciato è il percorso e già si vede diciamo la dimensione del progetto sono oltre 100 chilometri un attraversamento dal tirreno allo ionio di fatto come dirò un attraversamento di parchi di grande rilevanza però questo non basta diciamo bisogna capire se queste condizioni iniziali sono condizioni sufficienti per iniziare un lavoro di questa natura e se ne vale la pena avendo fatto anche l'amministratore locale lo so bene che gli amministratori diciamo come dire non possono andare in cerca di chimere ma devono muoversi per realizzare con i metodi del quadro che veniva prima descritto progetti e percorsi di crescita delle comunità allora queste ferrovie naturalmente sono una stagione interrotta non dirò nulla sui motivi storico politici economici che hanno prodotto questa interruzione vi conoscete meglio di me questo è accaduto non soltanto nel mezzogiorno è accaduto in molte parti d'Italia per ragioni storico-economiche diciamo queste infrastrutture che hanno la loro origine ai fini dell'Ottocento e poi sono arrivate nel loro funzionamento fino sostanzialmente negli anni Ottanta per varie ragioni sono state interrotti naturalmente esiste e si conserva una diffusa memoria ne sono rappresentative anche gli studi le ricerche le passioni che ruotano attorno a queste infrastrutture io ho visto anche in questo caso le produzioni la ricerca e il volume dedicato a questa ferrovia che è di grande interesse e rappresenta appunto la memoria e anche la passione che ruota attorno alla storia di queste infrastrutture che è comunque una storia legata a tragitti di ricerca e di sviluppo possiamo procedere? ecco ma non si tratta soltanto di fare di immaginare un'operazione culturale che avrebbe naturalmente il suo valore perché qui c'è l'assessore Berlinguer e diciamo la ricostituzione della memoria dell'entità è una condizione per lo sviluppo almeno in Europa è una condizione per lo sviluppo in aree in cui non c'è memoria non c'è identità non c'è storia e quindi le comunità sono più deboli e anche più difficile fare lo sviluppo ma noi non possiamo allontarci di fare soltanto un'operazione culturale che potrebbe essere fatta ripristinando una parte un resto come si fa per una come dire per un tratto di antiche mura per un singolo monumento questo è un valore ma noi dobbiamo pensare di poter andare oltre e di vedere se attraverso il riuso e il recupero a fini turistici diciamo aggangiamo tendenze reali mercati reali di tipo culturale e di tipo economico adesso vediamo questo tema come si colloca il tema del riuso e del recupero a fini turistici e anche e in particolare a fini cicloturistici può dire anche su temi storici diciamo cosa succede nel contesto europeo quella che vedete è la home dell'organizzazione europea del del ciclismo una grande associazione che interlocuisce con le istituzioni europee e in questa interlocuzione naturalmente ha lavorato nel corso degli anni una sua strategia europea di valorizzazione e di della ciclabilità dello sviluppo turistico e di anche nuove tendenze culturali nella scoperta nell'esperienza del viaggio e del turismo quella che vedete è euro vedo è la previsione europea delle ciclovie subito si scorge che questa previsione europea naturalmente in parte realizzata attraversa come ovvio il nostro paese attraversa tutta l'unione ci sono naturalmente negli ultimi tempi anche estensioni dell'est in attuazione dei paesi che mano a mano sono entrati dall'est sono entrati nella nostra unione e quindi come vedete noi dobbiamo tenere presente questo quadro come veniva detto non dobbiamo ragionare localmente non solo dal punto di vista diciamo del comune che giustamente si allarga in un numero dei comuni ma anche dal punto di vista nazionale dobbiamo prevedere e capire in quale contesto europeo collochiamo le nostre idee quello che vedete è il percorso è l'itinerario 7 la pista del sole che è dentro la rete europea è un itinerario che va da capo nord a Malta attraversa tutta l'Europa da nord a sud e come si vede laggiù in fondo quel tracciato che comincia dalla campagna e finisce dalla Calabria già ci dice qualcosa già si vede che noi siamo dentro un percorso un tracciato un itinerario cioè non siamo isolati ci collochiamo dentro una programmazione una visione europea e dentro un grande itinerario che attraversa capitale europee e non soltanto capitale e che collega e diciamo anche il nostro paese con un altro paese questo è molto importante anche dal punto di vista dei programmi interreg dell'Unione Europea che ci danno molte opportunità in piccoli hanno già fatto altre regioni italiane ad esempio in Frioli con la parte con la Slovenia e con l'Australia questa che vedete è la rete nazionale sulla base di quella rete europea è stata elaborata e definita una rete nazionale e come vedete anche questa ci dice qualche cosa perché quel percorso è confermato c'è un grande itinerario che attraversa il nostro paese e passa la Basilicata entra nella Calabria si unisce con l'Adriatico e unisce tre mari unisce il Tirreno con l'Ironio e con l'Adriatico rete nazionale possiamo procedere questa è una descrizione delle grandi cosiddette grandi vie itinerari che si articolano in questi grandi percorsi e che conferma anche questa rete la revisione di cui vi ho parlato possiamo procedere ecco vi dico subito che queste sono le ciclovie di qualità naturalmente una ciclovia sono di qualità le ciclovie che hanno determinati caratteristiche sono dedicate hanno un'antimetria adatta come dicono gli spetti a tutte le gambe diciamo hanno protezioni hanno servizi e possiamo procedere se guardiamo queste grandi vie e ciclovie di qualità noi ci accorgiamo che 15 sono al centro nord e solo 4 nel mezzogiorno su 20 itinerari 16 di questi itinerari hanno ancora più caratteristici si trovano sempre nel centro nord e 4 nel mezzogiorno e di ciclovie di qualità ne abbiamo 50 nel centro nord e 5 nel mezzogiorno la ricompositivo c'è un'opportunità per il mezzogiorno c'è un'opportunità per il mezzogiorno e dobbiamo lavorare secondo me per cogliere questa opportunità e per riempire una rarefazione di infrastrutturazione per un segmento turistico che in questa parte del paese si è creata in particolare c'è un valore aggiunto che riguarda i percorsi di ciclovia su ex ferrovie su cui molti siti sono dedicati e si appisce perché perché tutte le ricerche e tutte le pubblicazioni fanno un focus su questo cioè le ex ferrovie utilizzate a questo scopo diciamo colgono varie opportunità sono una sorta di intermodalità turistica di funzione turistica perché colgono il mondo diciamo del turismo legato alla storia delle ferrovie che guardate è un mondo come Claudio ne parlerà è un mondo e quindi è un mercato colgono il mondo e il mercato del cicloturismo e colgono anche il mondo e il mercato dell'escursionismo perché su quelle vie è evidente che possono essere realizzati vari tipi di modalità di scoperta di viaggio di passeggiata adatti a tutte le gambe e a tutti gli approcci al tema quello più appassionato e quello più diciamo di passeggiate di divertissima o di piano di weekend o di vacanza questo è ovvio perché c'è un punto di vista molto particolare seguendo un'ex ferrovie che costituisce spesso una sorpresa vediamo il nostro territorio il paesaggio da un punto di vista che abbiamo dimenticato che non è comune lo vediamo in termini di vetro è una scoperta quindi c'è un punto di vista paesaggistico molto originale poi c'è diciamo l'attrazione della storia dell'ingegneria ferroviaria qui avete esempi straordinari io ho visto diciamo il tracciato che passa di qua ci sono infrastrutture quasi uniche quella il tratto elicoidale era una cosa che esiste in moltissimi posti posti al mondo si attraversano spesso paesaggi che hanno già una loro tutela una loro organizzazione parchi riserve naturali non parlo del prullino perché diciamo è una cosa talmente importante talmente rilevante che basta pronunciarne il nome e poi come dicevo rappresentano una intermodalità di scoperta e di viaggio dunque questo primo punto si potrebbe concludere oggi che questo possibile progetto si colloca nella previsione europee dei grandi itinerari si colloca nella rete nazionale può integrare percorsi già esistenti e già identificati che si chiamano ciclovia dei Borboni e ciclovia del Sole ha un valore aggiunto poiché si occupa del recupero di una ex ferrovia o di più ex ferrovia unisce tre parti ha un respiro europeo e nazionale e può avere in questa Unione dei Comuni in questo territorio un nucleo di partenza propulsivo e realizzativo poiché la parte di percorso che qui si è realizzato ha già una sua attrattività non c'è dubbio che abbia già una sua attrattività per come è fatto per i paesaggi che attreversa per l'infrastruttore e le infrastrutture di cui è composto e dunque diciamo queste caratteristiche inducono a vedere la questione e il tema come a vederla diciamo ben collocata nel quadro che vi descrive vi ho parlato del tratto siciliano lago negro diciamo perché conoscendone la complessità di questo tema e ripeto non come condizione per far avanzare il progetto ma bisogna tenerlo presente perché naturalmente questo rappresenta un collegamento con un'altra regione potenzialmente con una grande città dove arriva ad alta velocità e diciamo il tema dal punto di vista del progetto di cui stiamo parlando si pone in questi temi qualsiasi sia la decisione su quella linea va bene io non mi metto qui a descriverne diciamo le probabilità io dico qualsiasi stasera il ripristino di tutta la linea benissimo il ripristino parziale benissimo il ripristino in ciclovia benissimo in ogni caso una cosa del genere ben si unisce all'autorizzazione intermodale di questa via attraverso il rapporto bici treno o bici soltanto che può essere realizzato qualsiasi sia diciamo la decisione che può essere presa naturalmente se si prende una decisione se si prende una decisione questo è un tema che appartiene a un dialogo istituzionale immagino a livello delle regioni interessate e a livello di RFI e che comunque è un tema ho visto ci sono cittadini che se ne occupano ci sono escursionisti che la frequentano c'è un movimento il che è importante perché non soltanto la memoria ma anche l'attività che si può fare su questa linea è una cosa viva e dunque lo dobbiamo tenere da presente voglio dire un'ultima due cose su due temi il primo è il cicloturismo dunque di che cosa parliamo parliamo di una cosa molto ristretta che interessa gruppi di appassionati o parliamo di un movimento reale che è dentro il grande tema il grande movimento culturale anche turistico della mobilità sostenibile del turismo sportivo del buon vivere del viaggio e della scoperta che muove economie e molte altre cose andiamo avanti allora da ricerche di mercato condotte in sede in sede europea e da organismi molto qualificati risulta che dallo sviluppo della ciclabilità possono sorgere in Europa 650.000 posti di euro alcune decine di migliaia in Italia e si dà in crescita in tutta Europa la ciclabilità e il ciclotorio lasciamo stare le stime ora specifiche che si potrebbe fare la tara e un po' di questa natura noi sappiamo però con certezza che parliamo di un movimento reale in crescita in tutta Europa in durevole crescita in tutta Europa date le tendenze culturali le tendenze alla vacanza le tendenze alla passeggiata le tendenze alla salute le tendenze al viaggio eccetera eccetera dai grandi viaggi i grandi viaggiatori Africa Europa ai medi viaggi alle passeggiate nel weekend o nei 3-4 giorni di vacanza quindi parliamo di un movimento reale è un movimento che produce molta innovazione molta innovazione nuovi tipi di tour operator io vi ho messo il giro libero appunto in tiro è un nuovo tour operator che organizza vacanze in bicicletta giovani va alla scopetta dei generali li studia organizza mezzi e vende un pacchetto guardate la rete dei bike hotel e vedete come siamo combinati intanto una estensione e una crescita torna qui il tema del mezzogiorno come si vede chiaro noi abbiamo il centro nord soprattutto il nord est il centro è una ralefazione del mezzogiorno il che vuol dire che con le nostre percorialità con le vostre percorialità di questa parte del paese di questa regione c'è uno spazio da riempire se attiviamo un percorso normalmente diciamo si parla di una rete di servizi di tipo nuovo perché questo movimento richiede servizi nuovi è itineraria vedete è antesso una nuova società di servizi un SRL tra l'altro ce n'è uno anche a Matera a Matera che organizza i viaggi in bici alla scopetta alla scoperta del territorio intorno alla città e della città fatta di giovani e comunque è un movimento che crea nuove comuni cioè le forme moderne con le quali ci si mette d'accordo per andare a fare delle cose nuove applicazioni su telefonini e sul web per trovarsi e scoprire un nuovo impressionante sviluppo editoriale riviste una letteratura dedicata che ha radici antiche antiche insomma ha radici e che si sviluppa e ho visto ultimamente lo studio della McKinsey una grande società che comincia a vendere e a promuovere tutto ciò che riguarda la bici il ciclo eccetera eccetera a proposito di salute obesità e cose di questa natura dunque siamo di fronte ad una tendenza culturale e di mercato reale e in crescita quindi il nostro progetto potrebbe avere la chance di legarsi a queste tendenze di mercato e tendenze culturali e diciamo farne una di propria interpretazione per fondata sulla base delle proprie specificità della propria storia della propria ambienti della propria economia e via di seguire ultimissima parte sui termini storici che l'audio che ho detto ne parla di parlo di questo per una ragione che fra due minuti vi dirò io ho avuto modo di organizzare fin dal 95 questa esperienza del treno natura nella Val Duccia in provincia di Siena ed è un'esperienza che mi ha fatto capire molto nel senso che vi dirò poi i risultati è un'esperienza che ha tra l'altro condotta insieme a Claudio e a la sua impresa che diciamo è riuscita ad ottenere alcuni risultati di cui vi vedo possiamo andare avanti questi sono alcuni numeri europei sui treni storici la Francia questa è soltanto la Francia 75 operatori che organizzano queste cose in Francia su linee e su spese 1200 km di linee operative ridimentate per le operative affini turistici sto parlando di attività esclusive affini turistici 3 milioni e mezzo di paganti all'anno mille posti di lavoro a tempo pieno ok questa è la Francia ho messo qui un'immagine della Provenza per Cote d'Azur per una delle esperienze naturalmente la Francia essendo uno di quei paesi che storicamente ha inventato il treno si è sviluppato in Europa molto ha anche più operatori ma in Italia siamo a quel livello lì non dello sviluppo ma a livello dello sviluppo della rete e quindi anche dei fratti parziali di rete è solo che una potenzialità a questo suono quali sono i benefici che ho misurato primo si realizza un interessantissimo nuovo collegamento città-cattare che è un tema indagato storicamente dal punto di vista culturale dello sviluppo eccetera perché l'abitante metropolitano va in cerca della ruralità e dei suoi valori e il treno storico ne rappresenta un veicolo interessantissimo per fare questo viaggio viceversa l'abitante dell'area rurale ha il bisogno di incontrarsi con il mercato di opportunità di quello che offre diciamo l'area metropolitana si realizza una nuova forma di incontro è un'occasione uno strumento di promozione immagine per i territori formidabili perché siccome il vintage va l'interno storico va molte passioni ruotano attorno io ho visto quanta fatica duriamo per fare entrare della comunicazione della nostra iniziativa turistica una fatica feroce e sappiamo bene quanto porta l'armoniazione il treno storico è uno strumento formidabile che sfonda perché ha appunto le sue caratteristiche di sostenibilità di recupero della storia di visione del paesaggio e dei territori in un certo modo insomma attenzione non parla soltanto del treno storico qui si potrebbe avere anche un tema di innovazione tecnologica per usare le ferrovie dismesse o sospesse ma su cui non metterò ma molto interessante e quindi territori rurali rientrano come mi piace dire a me lo dico più semplicemente rispetto diciamo a un economista territori rurali rientrano nel giro hanno l'opportunità di rientrare nel giro a condizione come giustamente veniva detto prima che quel territorio ci lavori si unisca tiri fuori dalla sua tradizione le cose che può mettere in valore e abbia un disegno strategico perché il problema non è partire da un posto arrivare ad un altro quando arriva un altro devi scoprire e godere di delle cose e queste cose vanno coltivate costruite realizzate siano esse le loro astronomie siano esse diciamo un'emergenza storico-artistica si hanno messo una sagra una fiera una passeggiata un fiume una spiaggia insomma i valori da far crescere che un territorio può mettere in campo dunque sì in Italia oramai ci sono le condizioni per questa riuscita perché dopo una fatica micidiale siamo riusciti a costruire le norme tecniche per l'esercizio di treni storici che l'Italia non aveva a differenza della Francia dell'Austria eccetera eccetera la fondazione FS è una fondazione di RFI e tra l'Italia è uno strumento che riguarda le linee di proprietà di RFI qui siamo in un'altra condizione anche più facile è un motore di queste iniziative il ministero dei beni culturali del turismo entrerà nella fondazione sta per entrare perché ha capito soprattutto Francesini ha capito il motore di sviluppo e di crescita che questo settore può sviluppare naturalmente parlo della rete RFI ma se parliamo di rete non di proprietari di RFI la cosa è più semplice perché diciamo RFI oltre ad essere una grande impresa è anche una grande complicazione quindi una grande complicazione dopo non ce l'abbiamo siamo anche clara di lavorare con più semplicità andiamo avanti quindi ecco vi ho parlato di treno storico perché nel progetto di cui stiamo parlando noi dovremmo a mio giudizio verificare non soltanto la possibilità di riuso come ciclovia ma di verificare se tratti di questo percorso anche brevi possono essere riusati anche dal punto di vista di un piccolo percorso di treno storico perché questo ci vorrebbe permettere di utilizzare tutte le opportunità di attrarre tutti questi mondi che sono anche nei diversi mercati conclusione allora finitemi la conclusione è questa è che a mio giudizio ne vale la pena per rispondere alla domanda vale la pena lavorare e iniziare questo naturalmente questo poi diciamo è una valutazione del quadro che veniva descritto spetta ai rappresentanti e alle comunità ma aggiungo che è questo che per lavorare a un progetto del genere serve una organizzazione forse un'organizzazione dedicata a questo progetto chiarezza di tappe un lavoro non soltanto tecnico ma un lavoro di costruzione di consenso locale e oltre il locale è di grande promozione nel quadro di una programmazione più vasta di sviluppo del territorio ovviamente deve avere un centro locale realizzativo e propulsivo che sostanzialmente non è che avete giustamente costituito è il respiro necessario che dovrebbe con il quale interloquire con la regione brasilicata ovviamente con altre due regioni e con l'interlocuzione con il governo nazionale e con il senso dico l'ultima cosa in questo modo stanno facendo nel nord il progetto si chiamano vento non si tratta dell'area a tirare ma Venezia Torino grande infrastruttura di ciclo ok Venezia Torino quindi non abbiamo timore a proporre una cosa di respiro nessun timore da quello che so io che conosco io vento e un progetto del genere potrebbero essere i due principali progetti che il paese propone a Proxel in questo app lo dico con convinzione con convinzione e questo con una ragione in più perché si tratta di mettere dentro anche il valore aggiunto di recupero di esserlo basta Frido vi ringrazio per l'attenzione grazie Alessandro andiamo ora alla parola a Claudio Bertua che è rappresentante dell'Università Italiana ma è soprattutto dirigente del Consorzio Pongorgia con cui svolge tantissime attività e anzi lo ringraziamo per aver individuato in laurea anche una delle sue sete operative grazie il tema se non mi dispiace sto in piedi dal voce che non lo dia per la sufficienza muoversi oggi altre forme di mobilità per un turismo sospedibile non era inventare altre forme abbiamo già citato forse guardare da un altro più diverso la nostra esperienza nasce 22 anni fa 22 anni fa per aiutare un gruppo di volontariato che voleva salvare un pezzo di linea 9 km palazzaro palattico lago di seo pariscia ci siamo messi a inventare questa cosa e perché una cooperativa sociale potrebbe interessare salvare un pezzo di linea allora il problema vero nostro era che sempre ci occupavamo del pezzo finale tossicodipendenti malattie di mente arcolisti invalidi carcerati in mondo sociale e questo è già una bella fatica il problema vero era pensare a evitare che la gente arrivasse qua quindi il concetto di prevenzione che in tutte le leggi nazionali dalla 45 alla 285 poi arrivate nella 328 famosa che chiede alle amministrazioni comunali insieme con il privato sociale di pensare le forme di risposta al disagio ma anche di cercare di fare prevenzione la prevenzione per noi era il papà la domenica non deve guidare il papà la domenica guarda la moglie e i figli negli occhi e sta all'interno di un contenitore diverso non la macchina ma il treno una carrozza che chiaramente dà più possibilità rispetto anche al bambino di correre rispetto a socializzare questo per noi prevenzione far star bene la gente la famiglia quando sta bene risolve problemi all'interno evitando di arrivare alle cronache e di ammazzarsi e fare altro ok questo per noi era importante sì era importante era importante avere una mano della gente che voleva partecipare noi siamo stati quelli che insieme hanno raccolto la FIU per la 118 articolo quinto della prescrizione principio di sussidiarietà per i cristiani cattolici Re Rom Novaro 1893 non faccia il maggiore quello che il minore può fare cittotestualmente cioè vuol dire che la partecipazione oggi quella che voi avete dimostrato per fare l'unione la dobbiamo chiedere anche ai cittadini di partecipare perché altrimenti non ce ne andiamo fuori quindi per noi queste cose sono importanti ok quello che esattamente ci dà se ci mettiamo insieme e ognuno di noi fa il proprio pezzo ce la facciamo noi abbiamo voluto dimostrare questo attenzione non abbiamo portato a caso un centesimo eh zero contribuzione partecipazione volontariato e voglia di fare rischio di impresa cooperativa chiaramente ce la seguire il peso le motivazioni allora erano anche diverse perché fare muovere tra virgolette anche un treno a vapore mettiamoci dei pianti sulla oltre per recuperare quello che inquiniamo era più salute più socialità più spostamenti meno spese e possibili investimenti perché? perché c'è qualcuno che può fare da servizio ok le battute le ho preso da questo perché almeno così ci regoliamo allora se uno usa la bicicletta perché poi la usa nel tempo libero perché non può fare una vita quotidiana il nord Europa te lo sta insegnando noi altrettanto a volte un pochino stiamo imparando tanto è vero che lo vedremo dopo non lo è la niente ok perché però questo ci sia abbiamo bisogno di una promozione l'abbiamo appena detto un sostegno una pubblicità nuovi itinerari e poi li vediamo quelli che hanno pensato l'Europa ma quelli che possiamo pensare anche noi supporti logistici diverse opzioni per cui le settarie i logistici semplicemente quando credo che oggi siamo un'unica realtà in Italia che abbiamo un ostello stasina purtroppo come non c'è? vedi? allora stasina abbiamo dentro una vendita biciclette un noleggio biciclette un'officina tra virgolette che è del sistema o l'officina tu lo puoi fare l'automano protezione questo per noi è fare questa risposta perché altrimenti non funziona risultato risultato che oggi in due anni di apertura sono 12.000 ingressi ciclisti siamo 800 presenze ok? allora chi sono i portatori di interesse? ma ragazzi tutti noi devono essere province città d'arte comuni parchi inclusi persone per noi è la persona le persone contano le persone hanno passioni parlano si confrontano dicono quali sono i problemi e magari si dicono anche quali sono le soluzioni così la gente torna la gente ha bisogno di incontrare gente da noi la gente che viene sui treni 20.000 presenze all'anno nei vari settori l'80% è gente che non usa il treno abbiamo grossi bacini si abbiamo Firenze Siena per quanto riguarda la Toscana abbiamo Verona per la parte legata alla provincia di Brescia e abbiamo Milano e Verona queste sono le persone che prendono il treno vogliono stare sereni eccetera l'altra cosa perché abbiamo vinto in questi 22 anni e la gente viene perché da noi quando tu entri ti mettiamo i tuoi giorni a preparare il treno ti ricordate grazie ai volontari che sono magnetici arrivi in stazione provatelo per credere nome e cognome vieni accompagnato e tu hai il tuo posto con la tua famiglia o con chi è aiuto e appena notato questo è un servizio che non ci ha mai battuto nessuno e tutti ci fanno complimenti gli stranieri rimandano a fuca aperta quello che si diceva prima cioè se noi li coccoliamo la gente viene paga un biglietto che purtroppo è profumato perché dobbiamo discutere con la fondazione di abbassare il costo del noleggio perché 15.000 euro mi sembra un po' eccessivo allora la possibilità tutti giovani adulti aziende famiglie stranieri gli stranieri vogliono tantissimo questo piace tantissimo ma non è soltanto per gli stranieri attenzione come ho detto prima la gente alla domenica vuole andare fuori avere una giornata serena dove gli hai programmato la tua giornata gli hai programmato addirittura se voi andate a vedere il nostro sito ferrovie turistiche italiane arrivate e avete dove andiamo e andiamo un po' di dove non ci va nessuno si guarda attenzione perché quando vai a portarli in un paesino sperduto che quando arriviamo noi ce l'ha la protezione civile che il gruppo di volontari eccetera con i 270 300 persone che paghiamo si organizzano si tirano sui soldi per tutte le loro attività dell'anno volete che non ci vogliono bene quella gente certo ma non vogliamo bene anche noi perché tutti gli anni fanno di quel mangiare che è eccezionale è una accontentezza a portare la gente facciamo una bella figura a tutti e i soldi ricavati saranno per fare altre attività sui societari questo è l'operatività vera perché altrimenti ragazzi non ce la raccontiamo se i soldi sono pochi bisogna sfruttare e giocare al meglio e dunque cosa abbiamo ottenuto dei rapporti bellissimi con l'amministrazione comunale dei volontari e la gente che è contenta ok allora il tutto com'è perché questa mania della bicicletta bene è un'occasione benissimo la FIA ha fatto un accordo nuovo con le ferrovie per poter mettere le biciclette benissimo sta parlando di quanta gente 500.000 presenti attenzione ragazzi guardate che in Italia noi abbiamo abbiamo avuto 43 47 speriamo quest'anno di andare oltre i 50 milioni di presenze quindi se li paragoniamo il numero generale sono pochi sì è vero ma sono un numero importante perché vanno in posti dove gli altri non andrebbero noi le città d'arte lo sappiamo sono le famose che Roma sia piena lo sappiamo che Firenze Venezia Torino ok ma da noi da lì dobbiamo prendere sul territorio perché noi non ce la facciamo noi non siamo quella Roma non siamo la Roma ma è un spazio che interessa chi ha detto che noi non siamo interessanti smettiamolo a me piace tantissimo la pubblicità a Trantia io gli voglio tanto bene sei in un paese meraviglioso certo e meno male che ne ho scoperto diciamocelo e in ogni area di servizio ti danno i possibili itinerari bravissimi perché la stessa cosa noi facciamo nelle ferrovie nelle stazioni ok e poi a ridere dove la gente passa noi dobbiamo far vedere conoscere quello che attorno c'è forse la gente si ferma se gli diamo servizio venga noi abbiamo sperimentato le biciclette elettriche io non c'è bassina ma così anche il suo angolo termine vale camoni per mangiare altre due anche se qualcuno ha fatica ma vuole andare in bicicletta o adesso l'hanno inventata soltiamola tutto quello che è innovazione e che è opportunità è da giocarsi ok è moda può anche essere ma se la moda mi dà un'opportunità di conoscere il mio territorio perché no se la moda dell'elettricità è bella finissimo usiamola ma se mi fa conoscere quell'agriturismo che se altrimenti non ci avrebbe mai nessuno perché no noi abbiamo una bellissima cosa che abbiamo tantissime situazioni una in Italia potrebbe girare tutta l'Italia tutta la vita e mangerebbe tutti i giorni pasti completamente diverse e cose completamente diverse voi perché cucinare magari lo stesso prodotto ma cucinare in un modo diverso per cui giù fanno quella cosa non mi ricordo aiutami come l'hanno chiamata e l'hanno chiamata quel piatto là dall'altra parte lo fate in un altro modo è così bellissimo è bello l'Italia è bella per questo allora quindi attenzione il movimento l'elettricità perché mannaggia mannaggia arriviamoci allora e perché i giorni fanno le cose buone che vogliamo siamo lunghi e lunghi va bene sfruttiamo tutta la lunghezza quindi queste sono tutte opportunità che vanno aggiunte perché c'è un mondo bellissimo che va fatto conoscere avanti questa chiaramente la FIAB è stata riconosciuta come associazione che ha la responsabilità in Italia di curare le ciclovie ok bene facciamo in modo che i lavori bene facciamo creare delle associazioni che batteggiano per cui facciamo vedere che ci sono altri territori quello che vi ho detto prima lo rimargo quella roba lì non è semplicemente una serie di colori sono delle opportunità perché comunque in quelle vie sono state pensate bene facciamole vive in quelle vie avanti questo l'ho citato perché così perché la FIAB è andata in giuccio le franze di giudiccio perché nel 2013 scusi Pietro è stata per la prima volta abbiamo venduto in Italia più biciclette che macchine bene mi fa piacere ne godremo tutti però attenzione 20.000 soci distribuiti in 142 associazioni amici di bicicletta 4.200 escursioni sono 6.000 no 130.000 persone quello è il numero 130.000 persone gli altri sono stranieri che sono arrivati vanni il allora il cammino di Santiago ha cominciato nel 92 2-3.000 persone siamo arrivati a oltre 100.000 presenze vuoi il film? benissimo vuoi il film? facciamo il film anche in altre parti ma noi la via Francigena ce la ricordiamo la via di San Francesco tutto il movimento religioso che ci può essere cioè tutte queste cose dove però è inizio io arrivo c'è un ostello e sono 10 euro non sono 50 euro c'è la possibilità di avere una lavatrice che mi lava le mie cose che me le stende c'è la possibilità di avere un fornello dove io mi faccio vantare perché la base è questa che ci sono dei volontari è la mia chissà cosa tra parrocchia tra uno e l'altro e quest'altro bisogna pensare a queste forne io non penso a forne che devono sconvolgere la vita o che devono chissà qua i soldi sono partecipazioni ragazzi guardate che la gente ha bisogno veramente di incontrare le persone questo fa la differenza quindi altrettanto queste sono le tre associazioni dislocate sul territorio dove abbiamo sperimentato e ve lo ho detto questo è abbiamo altre cose sì ci sono delle editorine che sono bellissime abbiamo la prima ferrovia ve lo ricordo è Napoli e lì c'è il museo nazionale perché c'è Pietrasa e possiamo sfruttarlo meglio? perché siamo poi stati di stare avanti questo è un esempio perché cosa abbiamo fatto? abbiamo combinato la festa del lago con un'escursione e abbiamo fatto conoscere quella quella dopo allora quella del tre ma tu cosa abbiamo combinato? due cose la storia di Borghi e francigena passo l'ottopasso gli abbiamo fatto fare un pezzo di francigena e uno dice ma io devo andare a prendere il tre e allora ti camminai ti prego sull'altra stazione ok? allora sono tutti esempi perché il tre è un bellissimo strumento anche con la litorina perché dove non è elettrificato o ci vai a vapore o ci vai tra le due a diesel benissimo abbiamo ancora delle litorine storiche bellissime che fanno girare allora anche pezzi sì anche pezzi ci carica la bicicletta non c'è a ricorrere ma dall'altra parte sulle linee chiuse e dopo le vedremo ma questa è un'altra cosa importante ragazzi allora questi sono i corridoi che i nostri pensatori d'Europa hanno fatto bene prezzo per buono il corridoio 8 che parte da qui che arriva qui ma perché non arriva qua che chiuderebbe eh questo ti ho pensato che mi pensino a queste venette autostrade del mare benissimo grazie autostrade del mare magari facciamo fare qualche film allora se qualcuno in Europa pensa beh possiamo anche suggerire anche qualcosa che va a completare quella cosa ok per fare in modo che la gente arrivi perché la gente arrivi cioè 43 milioni di presenze prendiamo l'ultimo dato più basso dove arriveranno a terra quando noi cinque anni fa abbiamo proposto e siamo andati un po' a mendicare abbiamo fatto fatica eh alle varie province dire scusate ma quando arriva l'espo la gente per Milano e dopo le lasciamo sti a Milano come come le nuoviamo il vapore muo perché no la fatica di far capire questa cosa ragazzi è un po' sconvolgente abbiamo fatto sì un pezzo abbiamo fatto qualche prima però era questo cioè quando abbiamo delle occasioni il ragionare insieme deve essere per cogliere al meglio queste occasioni se tu mi fai l'altra espò a Venezia sull'acqua e non mi fai i collegamenti meno male che Moretti visto che avevo pubblicità i suoi in freccia rossa ne ha fatti benissimo perché perché molti le spostano la gente se poi lo spostiamo anche in un movimento un pochino più lento e non andare semplicemente a Roma e a Venezia forse sui territori ce la ragioniamo meglio gli aerei no ma benissimo che ci portino gente dobbiamo fare in modo di portarla a conoscere un nostro territorio non inventato cioè shopping shake ragazzi è come gli altri sono la riproduzione di piccoli paesi quando noi paesi ce li abbiamo e forse li abbiamo qui dentro ma di cosa stiamo parlando perché ci hanno messo un parcheggio e la gente facilita ma non è un gran paese siamo in parcheggio ragazzi perché altrimenti vuol dire che noi perdiamo occasioni facciamo costruiamo delle falsità il professor mi girerà però lo dico costruiamo delle falsità quando abbiamo dei paesi bellissimi che possono essere usati nella stessa mania altrettanto allora questa è tutta la rete nazionale internazionale che vediamo sulle ferrovie avanti questa è la rete in esercizio ok perfetto vai queste sono tutte quelle chiuse ok eh ragazzi parte l'ultima delle 87 guardate quanti chilometri abbiamo sono circa 400 chilometri vai e vediamo ecco la cosa queste sono tutte le ferrovie abbandonate in Italia qui ci siamo noi allora sono tutte opportunità sì sono tutte opportunità ma sono quattro se non usavo memori ho tre le liquidarie ma una ce l'avevo qua vai allora mi sono permesso di fare una cosa di questo genere a nome di tutti i sindaci scusate ma faccio la sorpresa siccome piaccio ogni tanto ricordare ho tanto buon lavoro non viaggio per tutto quello che ho fatto ma volevo regalare al presidente della ragione una tartaruga ci ho scritto anche in laurea perché uno perché va piano perfetto quindi apprezza il territorio due perché si dice che la tartaruga è anziana e una volta la tini diceva che gli anziani devono la saggezza allora la saggezza di lavorare insieme questo l'avete già fatto la saggezza di cominciare questo viaggio e fare in modo comunque che il nostro territorio che è bellissimo venga apprezzato grazie 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 lo seguiamo con questa interessantissima passeggiata e quindi questo concorso che ho avviato con Antonio Sveglia rispetto di sviluppo di sviluppo immobiliare e gestore di alberghi di posto ci ringrazio ci ringrazio dell'invito non riesco a avere una presentazione come Claudio simpaticissima approfitto però tutto quello che abbiamo detto da Fulini a Luri per entrare nel vivo di quella che poi invece ho due titoli che comunque sono la base principale una è la nuova frontiera dell'ospitalità e l'altra è il concetto della receptività diffusa perché entro nel merito di questa cosa perché alla fine quello che conta è la percezione che il turista il viaggiatore in questo parlo specifico si aspetta dal territorio quindi un soggiorno in un albergo o in una località di vacanze viene normalmente percepito come la possibilità di accedere ad uno stile di vita ambito e diverso dal quello abituale una vera e propria total rage in grado di soddisfare sia la motivazione di un'attrattiva di base cultura natura avventura evento enogastronomia e salute appunto come è stato detto sia di rispondere alla necessità di un appagamento complessivo nell'uso del proprio tempo libero ricettività ristorazione e prodotti climici tale esigenza riflette l'attenzione verso esperienze autentiche che caratterizzano ormai una fretta sempre più consistente della domanda di vacanze abbiamo visto in quale in quale percentuale aumentate i nuovi turisti sono più maturi più sapienti sapere e spesso tradiscono le mete tradizionali perché cercano emozioni e esperienze più vere più a contatto con la matura la cultura e la gente dei luoghi visitati mi fermo un attimo su questo punto perché tutto questo progetto è vero verissimo che avrà tanto più successo quanto più tutta la popolazione locale sarà a disposizione e si metterà a disposizione verso questo obiettivo affinché la vacanza o il semplice soggiorno in una unità recettiva non diventi scontata perdendo la sua formidabile capacità evocativa appare dunque sempre più necessario offrire al turista del nuovo millennio una proposta unica e irripetibile che risponda a tutte le sue esigenze esplicite o latenti che siano riprende con migliori l'interesse per il turismo di scoperta del territorio e delle tipicità locali l'attenzione per le nuove destinazioni ma anche una diversa gamma di prodotti turistici e per una qualità dei consumi più attenta non solo alle modi e prezzi ma anche ai contenuti e significati prende forma quindi una nuova cultura turistica con nuove motivazioni che vanno dalla ricerca di un'esperienza autentica dei luoghi alla riscoperta delle tradizioni e delle risorse locali e dell'interesse per nuovi modelli di vacanza che combinano le attività ricreative con le nuove esperienze culturali tale tendenza turistica sintetizzabile nel concetto di reading culture trova la sua naturale confluenza hanno utilizzato le nuove forme di ospitalità che superano i nuovi concetti alla base delle tradizionali proposte il concetto di ricettività diffusa ma quali sono i requisiti cruciali di un albergo diffuso entrando nello specifico per esempio la distanza massima tra gli immobili non deve essere tale da impedire alla gestione di offrire a tutti gli ospiti non solo servizi alberghieri ma anche l'esperienza stessa della formula ospitale la distanza di 200 metri tra la reception e gli altri immobili dell'albergo non dovrebbe essere superata la gestione deve essere professionale ma non standardizzata non simile per intenderci a quella che caratterizza gran parte degli alberghi che fanno parte delle catene alberghiere né tantomeno simile a quella rigida dei grandi alberghi in perfetto stile Ritz ma coerente con la proposta di autenticità degli uovo la gestione deve dotarsi di uno stile riconoscibile di un'identità leggibile in tutte le componenti della struttura ricettiva che non si deve configurare come una semplice sommatore dei mobili ristrutturati e messi in reddito la comunità nel suo insieme deve diventare parte integrante della gestione apportando la propria esperienza e autenticità mantenendo intatta la propria identità ma offrendo contemporaneamente al turista i servizi di cui nascessi ecco in sintesi alcuni punti di forza di questo modello di ospedalità capacità di soddisfare i desideri di un'utenza esigente ed esperta persone che hanno il gusto di viaggiare che hanno trascorso vacanze e soggiorno in diversi tipi di alberghi e località e che sono alla ricerca di formule innovative che allo stesso tempo siano in grado di rispecchiare il più possibile le caratteristiche del luogo il rispetto dell'ambiente culturale quindi il recupero del patrimonio artistico e culturale incremento dell'edito e dell'occupazione mantenimento o addirittura incremento della popolazione senza contaminare la cultura l'ambiente e l'identità del luogo poi c'è l'autenticità che permette ai turisti di vivere l'esperienza di un solo giorno in case e palazzi progettati per essere vere abitazioni con aspetti strutturali con le nuove spazi infissi arrede impianti diversi da quelli progettati per turisti articolazione della proposta offre una vasta gamma di scelte tutte offerte dallo stesso operatore ricettivo differenziato in termini di diverso livello di comfort delle varie unità abitative diversa distanza dal centro diverse caratteristiche architettoniche degli edifici consentendo una politica di differenziazione anche di prezzi con proposte diverse e differenti fasce di utenza perché ovviamente non si può pensare di proporsi solo una fascia né bassa né nella si propone su tutti originalità novità della proposta una soluzione ricettiva in gran parte originale comporta una maggiore visibilità e offre numerosi vantaggi in termini di strategia di posizionamento nel mercato terrestre l'albergo diffuso può avere la funzione di animatore culturale ed economico utilizzando la recezione anche come ufficio informazione delle località che può così rivitalizzarsi mantenendo al suo interno le normali funzioni residenziale commerciale e artigianale i servizi alberghieri i alberghi diffusi garantiscono tutti i servizi alberghieri da ristorante alla risale comune alla piccola colazione eventualmente servita anche in camera e quindi alloggio vito e servizi accessori inoltre la dimensione complessiva dell'albergo di fudo permette di personalizzare i servizi anche attraverso la collaborazione delle attività commerciali già attive nella località ed aumentare il coinvolgimento degli ospiti avviando così un naturale processo di utilizzazione per sviluppare il passaparola lo stile gestionale si caratterizza quindi nell'universo ricettivo per l'atmosfera originale per le modalità di allogazione dei servizi e per il suo collegamento con il territorio l'albergo diffuso ha uno stile unico perché rispecchia contemporaneamente la personalità di chi lo ha voluto e lo spirito del territorio la gestione è l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio anche nei tempi e nei ritmi del servizio oltre che i miei servizi e i miei prodotti offerti declinabilità la formula dell'albergo diffuso ha mostrato una grande flessibilità e capacità di adeguarsi al territorio e di caratterizzarsi sulla base di un tema o di un prodotto tipico o di una formula gestionale particolare io con questa lettura ho capito per ringraziarvi nuovamente spero che ci sia da parte di tutti i voi i sindaci soprattutto della popolazione a partecipare a questo progetto grazie ringraziamo Antonio che siamo giunti le esperienze al di sopra di Roma rientriamo nel nostro territorio per affrontare una modalità che è stata la costituita esperienza per l'albergo e quindi dando la parola al diritto a Chiarullo e a Marcella di Filippo che ci appunto illustreranno come per una proposta di sviluppo in ambito della Valdari proprio con la loro fondazione con la loro parte della FEM grazie grazie a tutti buonasera prima di entrare nel merito dell'oggetto della nostra presentazione vorrei contestualizzare brevemente l'attività del gruppo di ricerca sul turismo sostenibile della fondazione che coordino 3-4 slide appunto di inquadramento generale il turismo è sicuramente uno dei settori riconosciuti ormai unanimamente come uno dei settori tra i nazi dell'economia mondiale nel 2014 World Tourism World Bank ha stimato circa un miliardo di arrivi in tutto il mondo e 51 milioni in più rispetto al 2013 sempre il VTO per il 2015 prevede ulteriori incrementi della movimentazione dei turisti internazionali che dovrebbe crescere di circa il 3-4% anche in termini ovviamente questa movimentazione di questi flussi turistici generano è un incremento economico che anche in questo caso si aggira intorno al 10% sempre secondo stime di queste agenzie internazionali parallelamente nel 2014 si stima che complessivamente il settore turistico abbia movimentato attivato un'occupazione per circa 105 milioni di addetti il trend positivo si riscontra anche nella nostra regione nel 2014 la Basilicata ha continuato a incrementare la movimentazione turistica all'interno delle proprie strutture con circa 580 mila arrivi con un 9% in più rispetto a quelli registrati nell'anno precedente si tratta di flussi come si evidenza in realtà molto bene dalla tabella che è legato che sono sempre più spalmati sull'intero anno quindi non polarizzati nei 3-4 mesi estivi e questo significa per il settore turistico lucano e per gli imprenditori che lavorano in questo settore maggiore sostenibilità e maggiori profitti economici diciamo che la stagione turistica in Basilicata si sta sempre più allargando non coinvolgendo più soltanto i 3 mesi estivi continua a essere un turismo prevalentemente domestico quindi il tasso di internazionalizzazione cioè i flussi provenienti dall'estero sono ancora molto limitati circa il 13% il 14% però anche questo va letto in un contesto un po' più generale in quanto è un dato similare ad altre regioni del sud quale ad esempio anche la Puglia la Basilicata quindi si conferma una regione dalle grandi potenzialità da un punto di vista di attrattiva legate soprattutto al prodotto natura circa il 25% del territorio della nostra regione è tutelato sottoposto a tutela paesaggistica e naturalistica e ovviamente accanto al prodotto natura viene quello cultura ultima la destinazione di Matera come capitale europeo della cultura permangono tuttavia delle sfide delle criticità qual è ad esempio la perificità la perifericità della nostra regione comunque è al sud non ha aeroporti all'interno o è anche un'infrastruttura interna non sempre agevole per visitare l'intero territorio tuttavia è nostra convinzione che una corretta programmazione pianificazione e promozione del nostro territorio potrebbe permettere a queste caratteristiche di rendere e di specializzare maggiormente il nostro territorio rendendolo quindi appetibile per un non particolare tipo di turista che cerca l'esclusività che cerca un prodotto di nicchia cerca dei luoghi non ancora contaminati e lontani dal comune e in questo la Basilicata potrebbe assumere un ruolo e una rilevanza considerabile anche rispetto alle destinazioni che la circondano in questo contesto si inseriscono le attività del gruppo sul turismo sostenibile della fondazione che dal 2008 a sede opera con una sede stabile a Vigiano ma interessandosi ovviamente di turismo a 360 gradi rispetto alla Basilicata cosa facciamo? Sicuramente in primis attività di monitoraggio e analisi dei dati sulla movimentazione turistica indagini specifiche sul campo quindi interviste questionari somministrazioni incontri con gli operatori studi di benchmark anche per permettere e capire come la nostra regione si muova rispetto ad altre destinazioni ipotesi progettuali e soprattutto collaborazioni con enti e istituzioni locali con i quali abbiamo avviato ormai da anni anche dialoghi formalizzati anche da accordi specifici alcuni degli ambiti di ricerca che abbiamo affrontato in questi dal 2008 sono qui leccati ma è tutto anche scaricabile e aggiornabile autonomamente visualizzabile all'interno della nostra pagina all'internet che è www.fem.it lì all'interno trovate tutti anche i nostri rapporti di ricerca tra le attività le principali che mi sembra in questo contesto opportuno evidenziare turismo natura rispetto al quale la referente la dottoressa De Filippo ci parlerà profondamente subito dopo il mio intervento cineturismo quindi come anche le pellicole cinematografiche possono promuovere l'immagine veicolare l'immagine di una destinazione il turismo neogastronomico quindi legato ai prodotti tipici della nostra regione turismo energetico turismo degli eventi quindi ad esempio come e quanto un evento può diventare fattore di attrazione e quindi incentivare l'acquisto di una destinazione come la Basilicata i nostri output e chiudo sono ovviamente intanto essendo un ente di ricerca pubblicazioni dissemination in vari termini conveni come questi ma anche pubblicazioni scientifiche di portata nazionale e anche internazionale ma anche ed è la cosa che ovviamente ci interessa maggiormente in molti casi cerchiamo poi di applicare le attività e gli studi che noi facciamo in formato o utilizzando le tecniche che dicevo prima cercando di realizzare e concretizzare progetti ho messo soltanto a titolo di esempio due ipotesi progettuali questo è quello che abbiamo fatto per il parco energetico della Valdaglia e questo invece si riferisce a uno studio rispetto a una ipotesi di realizzazione di un albergo diffuso nel comune di Ligiano lascio la parola adesso alla dottoressa De Filippo che appunto ci è entrato nel merito rispetto al tema del oggetto della nostra discussione che è appunto le potenziali turistiche del parco nazionale dell'Apennino Lucano innanzitutto buonasera come ne anticipava il dottor Chiaro io vi illustrerò alcuni dati che hanno riferimento il parco nazionale dell'Apennino Lucano di cui anche la Conegresa fa parte innanzitutto la fondazione si occupa di ecoturismo e del parco nazionale dell'Apennino Lucano nello specifico dal 2009 quindi quando il parco si era appena istituito e stava diciamo strutturato anche la sua offerta turistica innanzitutto è stata fatta una stima della domanda potenziale e una valutazione su quanti turisti ritenevano il parco una meta appetibile in seconda istanza la fondazione si è occupata di un'analisi diagnostica che era utile all'ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile una certificazione europea che pone in rete tutte le aree protette d'Europa e successivamente ci stiamo occupando dello studio della domanda turistica del parco dell'Apennino Lucano proprio in seguito all'ottenimento della Carta e quindi al piano di azione equinquennale che obbliga il parco a diciamo tenere sotto controllo la domanda turistica e i segmenti turistici presenti nel parco come lo facciamo con delle indagini sia di tipo quantitativo derivate appunto dall'analisi dei dati dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata ma anche con indagini più specifiche e quindi di tipo qualitativo attraverso questionari e interviste agli operatori nonché alle strutture ricettive ma agli stessi turisti quindi andando a sentire la soddisfazione dei turisti che raggiungono l'area protetta allora la prima cosa che bisogna tenere presente per analizzare la domanda turistica di un'area protetta è chiaramente il numero di arrivi e di presenze ovvero di persone che arrivano nell'area e il numero di permontamenti che trascorrono all'interno dell'area protetta per avere una misura di appunto qual è il fenomeno turistico all'interno di un parco quello che abbiamo analizzato è innanzitutto l'arco che va dal 2006 al 2013 cioè l'anno precedente all'istituzione del parco fino all'anno preso in considerazione per la nostra indagine quello che viene fuori è che sia sul piano degli arrivi che delle presenze il parco ha dimostrato di avere diciamo una PIL sempre crescente e in particolare ha aumentato il numero di arrivi quindi di persone che hanno raggiunto il parco del 6% negli anni di riferimento mentre nelle presenze ha raggiunto per il 25% attestandosi nel 2013 a circa 50.000 attivi e 120.000 presenze per una permanenza media ovvero notti soggiornate all'interno del parco pari a 2,4 l'altra analisi che è stata effettuata è quella di scorporare le tre aree territoriali che costituiscono questo parco ovvero la Val Camastra la Val D'Agne e il Lagone Grese per vedere innanzitutto quale fosse il peso turistico di ognuna di queste aree e successivamente negli anni quanto queste fossero cresciute cosa si vede che il Lagone Grese per quanto abbia solo 5 comuni rispetto all'area della Val D'Agri che comunque è territorialmente più estesa rappresenta circa il 29% degli archivi totali del parco quindi ha un peso comunque significativo ed è un'area che negli anni ha visto sostanzialmente una tenuta dei flussi diciamo che l'unico neo è che ha una permanenza media piuttosto bassa comunque di una notte inferiore rispetto alla Val D'Agri area che comunque conta un buon numero di turisti di lavoro legati comunque alle attività estrattive che chiaramente hanno una permanenza media piuttosto lunga rispetto agli altri turisti cosa che va altro diciamo fattore che va considerato è la stagionalità dei flussi cioè la presenza nell'arco dei 12 mesi dei turisti cosa si vede che nell'arco generale il parco dell'Appennino Lucano ha una tendenza alla stagionalità con dei picchi diciamo nel periodo estivo e ciò si rispecchia anche per le tre macro aree quindi anche il lago di Grese vede comunque una crescita dei flussi nel periodo estivo per poi scendere in inverno e anche nel periodo da un mercato domestico ossia italiani infatti l'apporto del turismo straniero è pari solo al 6% dei flussi totali le provenienze generiche del parco dell'Appennino Lucano sono sostanzialmente di prossimità e fanno riferimento ad aree come la Puglia la Campania e la stessa Basilicata per quanto riguarda invece la zona del lagone Grese ci si accorge che ha diciamo un bacino un po' più differenziato potendo contare anche su regioni quali il Lazio la Toscana la Lombardia questo ovviamente è un vantaggio perché solitamente nelle aree protette quello che accade è di avere un bacino piuttosto limitrofo di utenza quindi è un punto positivo per l'area del lagone Grese dallo studio della domanda turistica quindi su un fronte più qualitativo quindi attraverso indagini presso i turisti e gli operatori della ricettività siamo riusciti a capire quali fossero i segmenti turistici maggiormente rappresentati all'interno dell'area protetta il primo segmento quello più importante fa riferimento al turismo di ritorno ovvero i turisti che vengono nella zona di origine per ritrovare e scoprire magari il territorio che avevano abbandonato o che semplicemente ricorda il proprio passato gli altri segmenti turistici fanno riferimento chiaramente al turismo natura all'enogastronomia al turismo di scoperta ovvero quel turismo che intercetta tutti i viaggiatori che hanno la voglia di andare diciamo alla scoperta del territorio e delle proprie tradizioni va tenuto conto che all'interno del parco importante il peso dell'escursionismo per il 48% dei viaggiatori che entrano nell'area protetta non vi di pernota e vi soggiorna per dalle 5 alle 8 ore medie durante una giornata quindi tenete conto che la metà delle persone che raggiunge il parco va via senza lasciare diciamo un dotto importante non sarà scorrendo che diciamo notti quindi non dà diciamo un indotto anche alle strutture ricettive dell'area le strutture prescelte da chi decide invece di pernottare sono principalmente gli alberghi ma anche le case private questo proprio per ritornare a quel segmento di turisti di ritorno che probabilmente hanno anche diciamo delle case di proprietà sul territorio bene anche degli anni turismi la compagnia di viaggio principale è quella degli amici diciamo della famiglia o dei viaggiatori che soggiornano in coppia meno rilevanti sono i gruppi organizzati quindi perché probabilmente viaggiano attraverso forme più strutturate di offerta e non avendo diciamo un'offerta sul territorio che possa rispondere alle loro esigenze fanno anche più difficoltà per raggiungere l'area a questo punto siamo arrivati anche a scorporare i tre territori e a vedere come cambiano i segmenti all'interno delle varie aree per il lagone grese il 40% dei flussi attribuibili a un turismo leisure che vede il territorio come un territorio spalla d'estate alla costa quindi i turisti che magari raggiungono l'area per motivi balneare quindi per frequentare l'area della costa Mara Teota ma decidono di pernottare nel lagone grese e quindi all'interno del parco dell'Arpennino Lucano e d'inverno sono invece principalmente turisti montani c'è una buona fetta anche di lavoro e di turisti business e il 28% invece fa riferimento ai turisti di ritorno ma anche ai viaggiatori di passaggio che pernottano nell'area magari per una sola nottata come sponda di viaggio per raggiungere altre mete brevemente anche in Valdani vediamo che il peso più significativo è quello del turismo di lavoro e poi una buona fetta di turisti montani e altri tipi di turismi in Barcamastra il peso più significativo è chiaramente quello legato alla frequentazione della montagna sia l'estate che l'inverno cosa fanno i turisti quando arrivano nel parco dell'Appennino Lucano diciamo le attività principali sono le passeggiate e la scoperta del patrimonio urbano dei borghi quindi assolutamente in positiva ipotensi della creazione di un borgo albergo degustazione di prodotti tipici e visita ai luoghi di produzione la partecipazione a feste sagre che vengono ritenute soddisfacenti molto soddisfacenti diciamo dai turisti che frequentano questi luoghi e chiaramente escursioni naturalistiche e sportive dato significativo su cui riflettere che per il 30% di chi arriva nell'area viene qui attraverso il passaparola di amici e conoscenti cosa significa questo? da un lato se ne parla bene quindi è una cosa positiva dall'altro significa che probabilmente l'offerta va strutturata e comunicata nel miglior modo possibile ai turisti infatti la seconda opzione è il contatto telefonico con gli operatori e solo in terza istanza attivano i siti web e i duffici turistici e centri visita dato significativo che merita l'attenzione appunto di chi gestisce il fenomeno turistico nel territorio è che il 28% quindi siamo quasi un turista su tre durante il soggiorno nel parco fa escursioni giornaliere all'esterno del parco quindi nonostante abbiamo una varietà di territori e di risorse non riusciamo a trattenere un terzo dei turisti che soggiorno nell'area protetta la cosa interessante è capire dove vanno questi turisti quando escono dal parco e in particolare dove vanno quelli del lagone grese le mete principali come è anche abbastanza ovvio sono Maratea e Pollino alcuni si regano anche verso la Val d'Agri quindi il Sirino e nella zona più interna anche diciamo la Val Camastro e la Val d'Agri cedono questi turisti alle aree limitrofe e ciò che è interessante approfondire è che invece il bacino circostante per bacino circostante intendo tutti i territori turistici che stanno nell'arco delle due ore di percorrenza dal centro ipotetico del parco non arrivano e non vedono come meta di interesse il parco dell'Appenino Lucano rappresentano però comunque dei bacini importanti perché sono quelli che potremmo riuscire ad intercettare con più facilità perché chiaramente gravitano attorno all'area protetta da qui l'ipotesi di andare ad indagare quale possa essere la domanda potenziale del parco e chiaramente anche del lagone grese come ci siamo mossi innanzitutto abbiamo diciamo indagato su due settori trainanti quello del turismo natura essendo chiaramente correlato ad un'area protetta e quello del turismo di scoperta che è un turismo che diciamo fa da cappello a tutti gli altri segmenti come il turismo enogastronomico il turismo culturale e che quindi può racchiudere all'interno tutta una serie di diciamo target turistici che noi potremmo chiaramente intercettare i tre bacini fondamentali da tenere in considerazione sono le scolaresche provenienti dall'area del Pnalle e del bacino di Mitrofeo quindi sempre all'interno delle due ore i residenti e i turisti che soggiornano nel bacino di riferimento qual è il dato significativo? innanzitutto torno sulla slide precedente per dire che chiaramente è una previsione non è che tutti quelli che potremmo intercettare chiaramente arriveranno nel parco ma con un'offerta adeguata e una giusta promozione nell'arco dei 5 anni si potrebbe arrivare ad un massimo di questi turisti cosa accade che siamo andati praticamente a prendere per ogni area geografica il numero di residenti scolaresche e di turisti che soggiornano nelle prossimità del parco motivati dal turismo natura e dal turismo di scoperta come vedete tutti i territori considerati hanno dei numeri superiori a quelli che sono in effetti già ora presenti nel parco quindi sono tutti i bacini che potrebbero rientrare all'interno dell'area protetta e cementificare il turismo nel parco stessa cosa per le scolaresche che come vedete hanno numeri importanti il turismo scolastico è un settore fondamentale per le aree protette perché chiaramente congilia la missione del parco di divulgare il valore dell'ambiente e della natura e chiaramente fa anche diciamo preindotto sul territorio così come visitatori in vacanza nel bacino di mitrofo derivati appunto sempre dal turismo di natura e turismo di scoperta a questo punto abbiamo messo tutta questa questi dati all'interno di una matrice per capire come si posizionano i vari prodotti sia per dotazione di fattori chiave sia per l'ospetta territoriale presente del parco che per questa domanda potenziale e cosa è venuto fuori che il segmento più strategico per il parco al di là di quanto si possa credere non è il turismo natura ma il turismo di scoperta perché in effetti i territori che viviamo sono particolarmente ricchi e interessanti per chi cerca appunto la tradizione e la scoperta di aree particolari e mentre la natura diciamo ha bisogno di una maggiore dotazione di risorse che al momento sembra diciamo più carente in particolare vi è soprattutto un'intensa concorrenza sul territorio pensiamo che siamo a due passi dal Pollino anzi Lauria è a cavallo tra il Pollino e il parco dell'Appennino Lucano e quindi bisogna agire diciamo in corrispondenza su due piani il turismo di scoperta e il turismo natura è chiaro che per poter aumentare l'appeal del parco dell'Appennino Lucano che risente anche di una minore riconoscibilità a livello nazionale tra tutti gli altri parchi sarebbe opportuno valutare delle integrazioni con territori chiaramente più attrattivi rispetto all'area del parco dell'Appennino Lucano e come vediamo nel caso in cui si pensa a una sorta di integrazioni con altri territori crescono sia il prodotto scoperta che il prodotto natura e in particolare le integrazioni che possono essere realizzate che possono portare diciamo a dei fattori di sviluppo all'interno del parco dell'Appennino Lucano sono queste per il turismo montano bisognerebbe studiare un'integrazione con chiaramente l'offerta del Pollino e del Gallipoli Cognato per il turismo di scoperta con la costa ionica che è un bacino diciamo piuttosto nutrito di turisti rappresenta quello più trainante per il turismo della Basilicata con il parco delle chiese rubestre quindi con il Materano ma anche con Maratea e il Pollino stessa cosa per il turismo natura e in particolare vediamo di nuovo tornare il Pollino un'integrazione quindi con l'area protetta che ha diciamo un valore una riconoscibilità più forte rispetto a quella dell'Appennino Lucano e con la costa Maratea su questa scia la fondazione ha iniziato ad ipotizzare delle integrazioni la prima con la costa ionica che abbiamo chiamato Green Road e quindi a cercare di portare avanti una progettualità che connettesse il territorio della costa con quello dell'entroterra in modo da favorire entrambi i territori perché chiaramente l'entroterra potrebbe attingere da questi bacini mentre la costa potrebbe in qualche modo cercare anche di destagionalizzare la sua offerta proponendo un pacchetto più differenziato di prodotti e con un territorio anche più ampio su cui muoversi da qui sono nati due itinerari uno culturale e uno naturale che diciamo riescono a valorizzare tutte le risorse che si presentano lungo questo asse che è la 598 che è l'arteria che collega per appunto la costa ionica con l'entroterra della Valtaglia e della Varca Mastra con dei territori particolarmente interessanti sia dal punto di vista morfologico che turistico e dietro questi itinerari chiaramente c'è una progettualità con centri visita e una serie di strutture che mirano ad enfatizzare queste risorse la stessa progettualità si è pensato di trasportarla sulla costa titrenica e quindi coinvolgendo anche l'area del Lagone Grese credendo che visto che i turisti insomma vanno verso Maratea del Pollino e che quelli del Pollino e di Maratea non rientrano poi nell'Apennio Lucano possa essere interessante cercare di portare avanti un progetto che invece cerchi di convogliare questi turisti e di portare alla scoperta di un territorio comunque meritevole come quello dell'Apennio Lucano e su questo progetto diciamo siamo ancora in fase di inizio abbiamo iniziato già a somministrare dei questionari sulla costa Marateota nell'estate per capire se i turisti diciamo interessati i turisti barneari fossero interessati a scoprire l'entroterra e dai primi dati che ci vengono restituiti sembra che ci sia comunque un forte interesse a visitare questi luoghi e per questo che anche la Fondazione Mattei si trova qui proprio anche con il Comune per cercare di capire se questa virtualità possa interessare anche al Comune di Lauria e quindi provare a portare avanti queste iniziative insieme grazie mille non solo il Comune di Lauria noi ormai abbiamo interventi unione non esiste più la singola municipalità il territorio vuole essere protagonista insieme faremo tutto ciò che necessita per poter per sapere cosa vogliamo fare da grazie come abbiamo detto prima manca una componente che la regione e che credo sia fondamentale anche nella condivisione non solo dei percorsi ma anche delle sinergie che costituiscono poi il sale della possibilità quindi c'è anche quello che è che è una parola del Comune di San Garza c'è la parola al Dottor Manzi ovviamente il direttore del Dipartimento della Programmazione regionale il direttore generale prego grazie ci dice come potremmo i flussi di turisti che vengono sul territorio ne ho visto alcune verificità ma lo potremmo intercettare il tema che voglio affrontare ma cosa può fare la mano pubblica la governance pubblica rispetto al tema dell'evoluzione del turismo cosa possiamo fare noi la regione cosa possiamo fare noi diciamo le amministrazioni comunali insieme ai sistemi territoriali su questo ci siamo interrogati e grazie all'esito delle nostre riflessioni abbiamo appostato anche su con conforto della Commissione Europea molti di euro sulla parte del sostegno al turismo nel periodo di programmazione del 2020 noi guardiamo il turismo in regioni in prima e partita come un'occasione ovvio per le politiche di sviluppo ma guardiamo anche il turismo come un'occasione di coesione territoriale e di coesione sociale c'è stato raccontato come alcune esperienze che guardano che partono dall'obiettivo di intercettare frusti turistici e valorizzare porzioni di territorio poi hanno ricadute concrete sul sostegno ad alcune fasce più deboli di popolazione che quindi mettono insieme il desiderio di sviluppo il desiderio di vacanza con una possibilità concreta di rimettere nella catena del valore porzioni di cittadini pezzi di società che non stanno non sono completamente valorizzate nelle politiche di sviluppo questo è un tema interessante un tema centrale noi guardiamo il turismo guardiamo il turismo perché è un valore in sé guardiamo il turismo perché è un gruppo ma guardiamo il turismo anche perché condizionando alcune politiche del turismo noi possiamo cogliere possiamo cogliere degli obiettivi che sono tipici delle politiche del web del sostegno delle politiche per esempio di carattere sociale per noi sono rilevantissime tutto quello che si è detto nella programmazione dei miei uffici ci passano moltissimi ragazzi moltissimi imprenditori che dicono vogliamo fare queste cose sono molto simili alle cose che ci sono state dette mi sono state fatte proposte molto interessanti sulla valorizzazione della linea ferroviaria che sta sulla fondo valle dell'Ofanto che prenderebbe che prenderebbe dentro la campagna la basilicata e pezzi della Puglia che è un progetto molto simile a quello che abbiamo visto c'è un progetto che riguarda la valorizzazione dei percorsi turistici già tracciati o su tracciati ferroviari abbandonati o viceversa su sentieristie che viene e che è in disuso che verrebbe per dire riconfigurata dentro il sistema dei marchi mi è stato detto da alcuni ragazzi che fanno già questo ti sono detto la scorsa settimana che proprio nell'Appennino nel parco dell'Appennino Mediterrane ci stimano che ci siano 600 km di sentieri che possono essere attraversati in distretta attraverso servizi di assistenza anche ai cicloruristi che vengono come dire accompagnati fin dagli snodi ferroviari che viene detto in territorio o viceversa utilizzabili che vengono sindaci da me che mi dicono vogliamo rimettere a posto e rilanciare tutti i sistemi di risalita che però nelle regioni invernali durano qualche settimana mentre potrebbero essere utilizzati proprio per intercettare flussi turistici riportarli in quota e lì aiutarli assisterli accompagnarli nella funzione del territorio attraverso politiche di sostegno del cicloturismo per il trekking che sono target interessanti per le comunità turistiche ma come programmazione io non voglio fare le punitive del turismo io voglio cercare di mettere di porne essere le condizioni amministrative e le condizioni finanziarie e il metodo di governo perché lo possa intercettare le energie territoriali che vogliono fare il turismo io ho bisogno degli imprenditori come dire con tutto il rispetto che mi siglaci ho bisogno innanzitutto di giovani ma anche di giovani imprenditori su cui investire io ho bisogno di potenziali partner economici se è vero che tutte queste operazioni funzionano e funzionano dal punto di vista economico io ho bisogno degli imprenditori poi la pubblica amministrazione accompagna assiste intercetta aiuta sostiene come dire tifra per gli imprenditori abbiamo bisogno di una classe imprenditoriale che faccia del turismo il loro business principale nel metapontino esiste una rete di imprenditori che si è strutturata esiste una rete di imprenditori anche formalizzata che ha formalizzato la propria cooperazione non è soltanto il metapontino lucano ma guarda anche alla parte della copuglia guarda anche alla parte della calabria fino a Sibani è una rete di imprese che come dire stanno cooperando per fare un'offerta turistica molto differenzia perché il loro obiettivo è quello di ampliare il periodo del turismo che non siano i soli i canonici due mesi ma ormai forse uno ma forse neanche più uno con i tempi che corrono periodi di vacanza estiva quindi il tema dell'imprenditorialità è un tema decisivo la mano pubblica può sostenere attraverso adeguate forme di accompagnamento formazione sostegno l'emergere di questa classe imprenditoriale che magari ha delle idee ma non ce la fa a far passare da idee a farle diventare un oggetto di imprenditorialità territoriale questo lo possiamo fare sì dobbiamo farlo abbiamo il governo di farlo allora chiedo ai sindaci chiedo a noi tutti noi tutti che guardiamo che abbiamo in mano il palino pubblico delle politiche sul turismo di aiutarci di scovare insieme potenziali partner imprenditoriali sui territori questo è decisivo se no ce la raccontiamo tra di noi l'amministrazione poi mettiamo pure i soldi però questi soldi magari ci sono come dire si formano degli interessi talvolta occasionali non sono degli imprenditori che abbiano una cultura che hanno sviluppato una cultura imprenditoriale adeguata e in qualche modo le risorse pubbliche vanno non adeguatamente spese per il sostegno al settore turistico noi abbiamo bisogno di far nascere la classe imprenditoriale che guardano il turismo come una vera prospettiva di business per il futuro esiste questa classe imprenditoriale probabilmente sì è ancora non sviluppata non ha sviluppato appieno le sue potenzialità dobbiamo intercettarla aiutarla accompagnarla e far sì che come dire possano vedere le forme nuove meno tradizionali del turismo che sono potenti raccontare gli imprenditori li dobbiamo scolare portare i fratelli e i fratelli e i fratelli e gli facciamo grandi ragionamenti con gli imprenditori ma davvero ci siamo più viventi ma proprio una dura perché qua non è un numero un numero enorme di imprenditori questa è la basilicata su questi due dobbiamo fare i conti io dico che quasi li possiamo conoscere uno e uno per dire non dobbiamo immaginarci una violazione cosa può fare la mano pubblica con il fondo sociale con questo con migliorare molto tutte le competenze diffuse in termini di ospitalità non abbiamo bisogno di marge abbiamo bisogno anche di tutta la partita della filiera food dell'ospitalità dell'organizzazione dei prodotti tipici eccetera l'altra parte che fa certamente la mano pubblica è quella dell'infrasostegno alle infrastrutture turistiche ma anche qui voglio dire abbiamo bisogno sempre degli imprenditori abbiamo bisogno delle location turistiche abbiamo bisogno degli alberghi che siano anche alberghi diffusi ma quando parliamo di un alberghi diffuso le proprietà delle case sono private la mano pubblica non può mettere i soldi su una proprietà privata lo può fare soltanto con dei particolari accorgimenti e se noi entriamo nel mondo degli Stato degli Stato sono illegittimi noi possiamo fare soltanto sostegno in deminis allora cosa chiamiamo all'administrazione acquistate voi le vecchie case e poi a questo punto possiamo valorizzarle perché è un comune che si carica di case monolocali magari antichi magari costerebbero poco però poi deve gestirli noi abbiamo bisogno di partnership pubblico-private se non esiste il privato come dire è una cosa bellissima ma mi chiedo ma se funziona così tanto perché non ci sono i privati che investono perché se non ci sono i privati che investono c'è qualcosa che non funziona abbiamo bisogno di accesso al credito la regione sull'accesso al credito ha una grandissima come dire sta avendo le preghine di accesso al credito di garanzia anche per i giovani che sono fondamentali il problema è l'accesso al credito in questo momento non è più un problema neanche per gli imprenditori in difficoltà perché se passano siamo noi che garantiamo è la regione che si fa da garante anche per gli imprenditori in difficoltà che in questo momento le banche neanche guarderanno neanche le faremo entrare perché moltissimi imprenditori da noi sono in difficoltà noi abbiamo un aperto un credito che si chiama tutto un programma un credito si chiama microcredito noi fino a 120 mila euro di cui il 50% è a fondo perduto il 50% invece viene dato con un rimborso che è pari quasi all'imborso del capitale noi ci facciamo addirittura il carico con un fondo sul conto interessi portiamo i imprenditori ad operazioni che siano sostenibili dal punto di vista economico poi c'è un altro tema la mano pubblica può dire mentre mi fai una relazione sostenibile dal punto di vista economico perché non ci possiamo far carico per tutta la vita di cooperative che nascono oggi poi domani non ce la fanno più e poi è sempre come dire la regione che deve sostenere questi ragazzi e ragazze che non possiamo fanno male in momenti di difficoltà allora diciamo la sostenibilità economica deve essere garantita e ci sono tutte le premesse perché ciò avverga c'è il tema della pubblica amministrazione che può dire mentre tu mi fai degli investimenti sul turismo io posso orientare il tuo investimento a finalità che non siano solo private ma che siano anche pubbliche faccio un esempio se io investo sulle strutture private dell'ospitalità alberghi strutture turistiche l'imprenditore in qualche modo riposiziona l'investo per una riqualificazione edilizia ed energetica questo è il mio la bolletta energetica dell'imprenditore è una bolletta estremamente elevata allora io dico ti posso aiutare direttamente aiutandoti sostenendo la tua riqualificazione energetica dell'impresa e questo ti consente di riposizionarti competitive sulla competitività perché abbassa il tuo costo di gestione ma mentre faccio questo quindi sostengo l'impresa colgo un obiettivo pubblico che è quello della riduzione dei consumi energetici secondo tutto di riduzione delle emissioni di inalteranti è uno degli obiettivi della pubblica amministrazione mentre sostengo politiche di turismo posso agganciarci politiche di welfare sociale assolutamente sì ci posso agganciare politiche di riqualificazione dei pochi storici sì ma me lo avete detto voi se voi fate un morco albergo dentro un un perimetro urbano di interesse quello può essere l'innesco di una vitalizzazione di quel territorio che altrimenti come dire ci morirebbe in mano allora mentre faccio il sostegno al bordo albergo il classico sostegno al turismo io faccio un sostegno come dire faccio un'operazione di coesione territoriale per la rivalorizzazione di quei territori questo lo possiamo fare questo c'è scritto nelle carte questo facciamo sul 14-20 e questo lo dobbiamo fare insieme non c'è strada imprenditori amministrazioni pubbliche dobbiamo intercettare vocazioni energie voglia di fare tutto il resto il denaro in certi momenti non è un problema il denaro pubblico non è un problema l'accesso al credito non sarà un problema se abbiamo come dire degli imprenditori che vogliono fare degli imprenditori se finisco con l'ultima notazione esiste una fortissima energia ci sono un sacco di persone che vogliono fare questa cosa tra anche i turismi nella maniera più tradizionale dove ci sono i percorsi e poi c'è il trekking e il ciclo turistico mi propongono un percorso cicloturistico che va da Lago Negro e arriva fino a Calabria che era un vecchio tracciato di una ferrovia sono i 108 milioni che potrebbero essere Lago Spezzano Lago Spezzano dico scusa che sono come dire bene dico scusa sono di attività quindi dico scusa che non sapevo ci sono fermenti sul tema se noi vogliamo uno degli aspetti il trekking è quello del marketing territoriale noi dobbiamo dare un'idea che qui in Basilicata esistono luoghi ed è facile che dare un'idea perché sono bellissime la Basilicata esistono anche possibilità come dire servizi che intercettano questi flussi del trekking dobbiamo fare un'idea di unità territoriale dobbiamo dare l'idea di un brand Basilicata che viene venduto in giro per il mondo su questo probabilmente la mano pubblica può fare perché abbiamo bisogno di mettere a sistema dentro una strategia regionale tutti questi fermenti territoriali allora quando le dico però mettere dentro una strategia territoriale una strategia regionale che viene costruita insieme ai territori con delle strategie territoriali però vi prego le mie biblioteche le librerie della regione le biblioteche degli misteri sono pieni di strategie ne abbiamo scritto in questi anni di tutti i tipi comunque voi facciamo una strategia no facciamo una cosa proviamo a fare una cosa una strategia semplice 20 pagine non c'è bisogno della tre cani delle strategie sul turismo 20 pagine ci diciamo cosa fare ci accordiamo su quelle cose che dobbiamo fare ci accordiamo insieme con gli imprenditori con i sindaci con chi ci vuole stare su questa partita e lo facciamo da parte della regione noi abbiamo negoziato abbiamo finito di negoziare questi programmi relativi sempre 4 incidenti per tutta la partita del FESDRA e del FSE riteniamo che sulla partita del turismo possiamo ricadere fra fondi FESDRA e per infastro del FSE che si stegna l'accompagnamento degli imprenditori ma anche sulla parte FESDRA perché c'è tutta la parte del turismo rurale che è fondamentale in questa partita noi pensiamo che gli interventi che non siano al di sotto dei 100-120 milioni di euro questo dico per attività di marketing poi c'è il sostegno alle imprese che quello è un altro modo perché le sosteniamo le imprese fra cui quelle del settore turistico noi pensiamo quindi che con queste risorse che abbiamo disponibili molto si possa fare dipende molto da noi dipende molto dalla nostra capacità di dialogare dipende moltissimo dalla nostra capacità di intercettare talenti e promesse dell'imprenditoria lucana è un po' una scommessa ce la dobbiamo fare è ineludibile questa strada l'ultima cosa una volta che intercettiamo promesse talenti tecnicamente gli economisti dicono dei tiger delle tigri locali che ci portano che investono e ci trascinano in alto tutte le esperienze che ci sono state raccontate e questo può essere sostenibile il Fondo Sociale Europeo gli imprenditori che in altri posti hanno fatto funzionare cosa di qui potrebbero funzionare potrebbero essere i nostri patras in tutta la partita e li inviteremo qui possono essere gli angeli del business dei nostri giovani imprenditori e allora mettere insieme esperienze consolidate con i giovani imprenditori che vogliono fare queste cose sotto l'accompagnamento delle amministrazioni comunali in qualche modo con il sostegno della regione mi pare che possa essere la scommessa che tutti noi che oggi possiamo in qualche modo la scommessa che possiamo sottoscrivere e che quindi che questa sia la strada che ci dobbiamo dare nei prossimi mesi nei prossimi anni non troppo lunghi perché ormai cosa dobbiamo fare lo sappiamo e che facciamo nel momento di farlo grazie grazie dottor Monti per l'incoraggiamento anche per la certezza per la certezza che ci ha la certezza vengo invitato alle conveni perché sono portatore sano di risorse economiche questo è il mio ruolo lo so per cui dico quasi tutti ci sono ma credo che questa sia una componente essenziale grazie diamo quindi la parola all'assessore che è in grado di fare simplici e di darci una visione europea di quanto abbiamo discusso questa sera allora non voglio angariare di un pochi vallosi superstiti che sono che ci stanno ascoltando quindi cerco di essere il prego bellissimo di tutto ringraziare il prego di tutti i sindaci che avete fatto quest'ottima operazione che è nelle cose nelle corde nell'attualità nella speranza del futuro che non sia quello di realtà parcellizzate senza più strumenti non ce la fanno cercano di elaborare una visione anche comune delle soluzioni delle soluzioni guardando i problemi che spesso sono comuni talvolta sono anche diversi ma insomma le soluzioni vanno lavorate con una visione più larga possibilmente e credo che questo esperimento stia funzionando funzioni e anche questa iniziativa di stasera non è affatto un'altra poco tempo fa e anche lo si approfibola perché voglio mettere i panni del del Sinter insomma questo di fare una sollecitazione di fronte anche sulle soluzioni tecniche che si possono trovare mando anche persone fuori con i quali confrontarsi c'è la che sia qualcosa di molto positivo e ci consente anche di non prechiudere ci fanno stessi e cercare di rinverdire magari il vecchio opposto e soluzioni che non hanno trovato sfogo fino ad oggi sfogo quindi credo che sia una cosa meritoria quella insomma che state facendo e che avete fatto nell'organizzazione di questa serata andiamo poi alla ciccia del problema qui noi parliamo di due infrastrutture una è la Sicilia Lago Negro e l'altra appunto è l'Alago Negro Spezzano Albanese due storie diverse in certa misura due infrastrutture molto diverse la prima sono circa 78 km è stata disattivata sostanzialmente nell'87 sapete perché? perché si era proceduto a fare l'elettrificazione della potenza salera quello è un po' il problema di lì venne sostanzialmente abbandonata ma guardate quella era è un tracciato che all'epoca era performante perché viaggiavano con treni a quattro case che significa che portavano diverse persone qual è stata l'alternativa? sono stati servizi sostitutivi che tutt'oggi lavorano sul contratto di servizio della campagna che vengono fatti e si scaricano sulla viabilità ordinaria con insomma qualche insoddisfazione di molti compreso il cui dato voi sapete agita da sempre questa speranza di riprendere tra le mani questi infastruttori infastruttori però la cui la riattivazione di infastruttura sarebbe molto costosa perché RFI che tra l'altro abbiamo contemplato e non siamo stati fermi ma nel grande tavolo tecnico che abbiamo aperto con l'amministratore delegato di federogia del Stato per la verità perché poi fanno finta di essere due famiglie diverse sono la stessa famiglia sanitaria e RFI con la federogia del Stato con l'amministratore della federogia abbiamo un tavolo aperto che riguarda tutto il comparto federogiano di Basilica ci abbiamo messo anche questo come sapete l'Asicinale da Regolo sta anche nel DGQ chiesa generale quadro sottoscritta nel luglio del 2014 quindi l'abbiamo messa con priorità due tra le cose da fare ma riguardando le carte RFI ci dice attenzione sono 350 milioni di euro per attivare la data 78 km 350 milioni di euro io ho fatto presente mi sembra una cifra un po' troppo cospigua però come voi sapete RFI che vanta una competenza tecnica non trascurabile e alcune informazioni che dall'altro conoscono quasi solo loro si fa anche fatica a poi dimostrare sul piano ingegneristico che quello che loro dicono forse può essere rivisto può essere diversamente interpretato lo stato dell'arte è questo quindi tema domanda riposta che si fa quella se c'era una conegro su interessanti riattivazione io noi l'abbiamo messa nella programmazione sta nell'intesa generale quadro però di lì a trovare i soldi per riattivarla ce ne passa tanto quindi essere onesti e dire magari 350 milioni non ce ne dà nessuno per riattivare questa tratta qui nonostante ripeto la usenza fosse attualmente non c'è ragione di pensare che si è diminuita abbastanza abbastanza costiva tenendo conto che questa tratta interessa il territorio vulcano per la quindicena di nove sostanzialmente quindi noi qui come soggetto coinvolto siamo coinvolti per la minima parte anche se ovviamente l'infrastruttura ci interessa può fare tante cose l'altro tratto è un tratto invece molto più desueto perché vedi già abbandonato almeno la parte fino a livello in anni 50 poi il resto è stato alla fine ha seguito la stessa sorte nel 79 è stato definitivamente soppressa i binari l'hanno tolti qualche anno dopo in buona parte quindi diciamo che lì la storia è diversa e si tratta di un'infrastruttura che in effetti si presta assai a questa interpretazione che è stata data stasera di una insomma una realtà che possa fungere da trattore turistico possa fungere da nervatura vitale del territorio insomma sono dall'altro un'infrastruttura di straordinaria come dire di straordinario pregio no? perché se la si guarda a Turca da Lotto Serra o Ponte dello Studente peraltro inagibile fino a Monticello poi c'è il lago Sirino in Nemo poi lì una galleria di 5 km viadotti alcuni in ferro ancora altri poi ci sono delle cose come Castellucci inferiore Castellucci inferiore c'è quella parte grigoletale c'è prima c'è caldo fino a poi arrivare a Rotonda alla stazione laggiù al confine e poi proseguire è un tracciato di straordinaria bellezza naturalistica è un tracciato di straordinaria a tratti in pregio ingegneristico che anche oggi fa una specie insomma vedere noi siamo coinvolti per 39 km anche questo è quindi un tema interregionale come lo è la parte di sopra ma anche la parte di sopra se la vogliamo vedere nella sua vitalità ed è un io sono d'accordo con quello che avete efficacemente rappresentato un'occasione straordinaria io credo di sicuro noi non possiamo assegnarci a lasciarla lì in infrastruttura in quelle condizioni di grezza anche se come sappiamo Basilicata non è mica la sola perché noi tenete conto che il secondo pezzo è scartamento ridotto mentre il primo RFI è a scartamento ordinario noi in base di casa abbiamo tante queste realtà qui è stato un paio un parte visto in una slide perché noi abbiamo la montavano ionico Matera abbiamo la potenza Abriola Laurenzana quella che passa da Sellano per cui una roba anche quella naturalistica spettacolare spettacolare di pregio anche poi abbiamo questa qui siamo un territorio disseminato di queste occasioni di queste infrastrutture di pregio che via via sono state abbandonate perché non rispondevano più alle esigenze queste alcune sono state viste come non più praticabili i costi sono aumentati poi un romano che si sta abbandonando l'anno dopo occorre spendere delle risorse estremamente significative per riattivarla perché una cosa è mantenere la vita una cosa è fatta da suscitare insomma ci troviamo in questa condizione io sono d'accordo non voglio spendere parole in più di quanto già efficacemente detto sull'opportunità di esplorare queste prospettive di recupero e di frenarle nel modo in cui io stesso penso sia nella vocazione di questa regione che deve puntare sul turismo sostenibile sul turismo dei parti sul turismo naturalistico facendo quello che avete detto che avete detto meglio di me cioè pensando a queste infrastrutture come un'occasione per richiamare le persone sul nostro territorio volgene verso un turismo che è quello delle greenways della bicicletta e non solo coniugare questo con questa straordinaria esperienza dei parchi noi le statistiche ci dicono che nei parchi tendenzialmente della crisi per esempio si è avvertita meno perché si tratta di isole felici laddove fanno e stanno fare il loro mestiere che non è solo quello di tutelare come mettere in patrimonio una teca ma quello di valorizzare quello di richiamare quello di sviluppare nell'occhio che tu dicevi efficacemente l'impresa ambientale abbiamo bisogno proprio esattamente di questo abbiamo bisogno di pensare a che Keynes pensava a radicalizzare l'economia con una leva pubblica che fosse temporanea con una leva strutturale che si diventa strutturale per più una leva di lancio diventa una patologia diventa la morte dello sviluppo stesso due abbiamo bisogno di disseminare la regione di una capacità imprenditoriale nel settore ambientale che poi è piena che ci possibilità di guardare al futuro perché se noi pensiamo di assistere alla ripresa ambientale quella così come nasce muore il giorno dopo una volta che chiudiamo il rubinetto delle risorse pubbliche i parchi devono lo sanno fare ma lo vogliono declinare tutto questo nel senso che abbiamo appena detto quindi sono straordinariamente d'accordo su questo ci sono però anche dei temi tecnici complicati ad esempio come sapete la seconda infrastruttura è un'infrastruttura FAL perché da quando le ferrovie calabro locale sono scisse nelle ferrovie della Calabria che nelle nostre FAL quella è un'infrastruttura FAL sapete qual è la condizione giuridica delle FAL che è una sorta di ibrido perché la legislazione nazionale ce l'avrebbe voluto regalare noi non le abbiamo mai prese per ovvie ragioni voi sapete che le FAL per essere una ferrovia fa circa 700.000 chilometri treno e fa 2 milioni di chilometri bus il che è un simbolo essendo una ferrovia ma ciò si spiega proprio nel fatto che le infrastrutture sono state abbandonate che sono state sostituite da servizi sostitutivi quindi loro fanno chilometri bus se non fanno più chilometri treno fanno pochi chilometri treno lì c'è tutta una legislazione che va dal decreto legislativo del 1997 fino al DPCM del 2000 poi c'è stato il nostro contratto quadro del 2000 anch'esso e ci dici pure un problema che è quello della proprietà di questa infrastruttura perché cosa dice la normativa nazionale la normativa nazionale dice guardate questo è dei mani ve lo diamo a voi regioni graficamente noi abbiamo noi passato la regione pensate bene non prenderlo ma lì perché poi significava spendere un po' di soldi per poterlo manutenere poi quando voi lo rivendete se lo rivendo allenate dovete prevedere un corrispettivo e quindi prima per iniziare il valore che è il caso della stazione di Piazza Mantevotti a Masera per cui il comune vuole fare le quanti quella è la stessa situazione in cui versa l'infrastruttura ferroviaria qui cioè sempre demanio che deve essere prima trasferita dalla regione e la regione lo trasferisce al comune solo che il primo pezzo è antilogratuito il secondo necessita con un corrispettivo e la cosa è complessa non tanto in questo caso qui dove il corrispettivo sarà tesivo ma in quello il corrispettivo è molto elevato quindi ecco c'è da mettere mano all'aspetto giuridico di questa trasformazione che non è una dischelata lo dico per gli amici toscani Sandro è senese l'altro non di filare è un toscano diverso il pistoyese ecco non è una dischelata capire bene come funziona il meccanismo perché ci sono dei tempi bisogna attraversare una serie di passaggi anche con il MIT l'inizio del demanio quella del nostro patrimonio per vedere come congeniare questo meccanismo e poi c'è anche il tema per le spettive per il si trattato e ovviamente questo lo si fa quando uno ha effettivamente declinato in maniera sostenibile quello che è un progetto infrastrutturale che si vuole fare in questa infrastruttura ripeto io credo che sia una battaglia come tu dicevi è una sfida che vale la pena di giocare credo che questa iniziativa di stasera ci consenta di partire con un ragionamento avviato credo che insieme noi potremo studiare insieme da tutti gli stecodes del territorio un percorso per avvicinarsi a queste grandi opportunità che venivano descritte che rischiano di aprire o di valere dal sud e nord perché il nord si sta attrezzando con le infrastrutture che ha e noi sia lato infrastrutture vive che lato infrastrutture morte siamo indietro invece dobbiamo dobbiamo recuperare il tempo il tempo perduto sempre la consapevolezza che l'infrastruttura allora come tu dicevi è la condizione di uno sviluppo e questo deve fare una propria amministrazione la propria amministrazione non deve fare i posti di lavoro la propria amministrazione deve creare le condizioni per fare perché i posti di lavoro non duri in un giorno possibilmente ma si dissegni nel territorio proprio quella capacità di fare un'impresa che le dà le gambe lunghe per sopravvivere anche in un futuro e questo guardate per la risultata di bellezze infrastrutturali naturalistiche architettoniche va fatto con sapienza io e Sandro arriviamo da una città Siena che ad esempio viene un certo qualche problema il turista giapponese visita Siena in 45 minuti arriva scende dall'alto prosegue la domina a un montellino fa il giro il 45 minuti e si va quello che beneficio lascia dalla città si è studiata una vera come dire visione strategia di attrattiva duratura gli creo un intrattenimento lo porto in giro gli do da dormire in maniera adeguata abbiamo la sofficienza di recettività di quale tipo a quale costo eccetera eccetera quindi per dire anche città d'arte che vivono il turismo tutta la vita ancora tanti problemi non li hanno risolti noi qui che mi piaceva l'analisi che faceva l'ottoressa di Filippo che ha fatto un'analisi interessante dei pari chi ci va perché cosa vuole trovare la scoperta o la mera contemplazione naturalistica eccetera eccetera quello è un'analisi molto utile se si fanno progetti di questo tipo perché ci dice qual è la domanda a cui io devo allestire l'offerta se no io allestisco un'offerta e non mi incontra una domanda perché la domanda è una domanda diversa quindi questi sono germi che ci consentono di gettare le basi per un ragionamento ampio che ci possa portare lontano ripeto e chiudo mi pare una sfida che vale la pena di cogliere risorse sono tante ma insomma i tavoli sono anche aperti noi dobbiamo avere il coraggio grazie anche a Matera Capitale abbiamo un volano anche in più per chiedere al governo nazionale di darci una mano a tante cose non vedrei perché no anche sulla revitalizzazione delle infrastrutture affinituristici visto che noi stessi io compreso ad esempio il piano nazionale delle porte ho fatto inserire a forza o quasi un capitolo sulla mobilità turista e parla della Basilicata e se se noi andiamo in quella direzione io credo che ci sarà che ci sarà una possibilità che potremmo cogliere chiudo con una battuta al nostro amico Bertua su questa tartaruga io non penserei solo all'anzianità e alla saggezza perché c'era un certo parzenone che già cinque secoli secondo me Cristo aveva detto guarda che questo maestro su Achille vince sempre perché quando Achille la raggiunge lei intanto si è mossa in un limite quindi non la raggiunge mai siccome questo Zenone era uno fissato veniva dalla scuola di Palmedite che pensava che il movimento non esiste perché è un fatto illusorio già che se uno è l'essere non può muoversi sennò diventa divenire e perde la sua essenza di essi ecco io lo accetto per scegliere questo regalo perché c'è i devincenti rispetto a quelli che corrono non arrivano a nessuna parte ma a piccoli passi io credo che andremo molto lontano grazie 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 assessore grazie di questa chiosa e con questo augurio per ringraziare i colleghi sindaci che hanno avuto la disponibilità di maniera fino a questo momento che credo che ci siano tutte le condizioni per poter diciamo riaprire un tavolo e aprirlo diciamo con le buone prospettive e la giusta visione e un grazie particolare ai relatori che ovviamente questa sera ci hanno supportato e spero che sia un primo momento di un rapporto crescente e che possa essere appunto per questo territorio essere un'occasione di crescere e chi ha avuto esperienza deve insegnare agli altri che ne hanno di meno su questo principio credo che potremo crescere tutti grazie di nuovo e buona sera a tutti